ok buonasera a tutti e benvenuti alla nuova diretta del mio canale sperando che si vede e si sente bene quindi fatemi sapere se si vede e si sente bene e questa sera il video di questa sera è la risposta alla domanda che mi ha fatto mi sembra Sara Sara sì Sara che ringrazio che mi ha chiesto se due fiamme gemelle possono arrivare a rifiutarsi entrambe mi sembra che questo è il titolo cioè possono due fiamme gemelle arrivare a rifiutarsi entrambe ok mi sembra una cosa del genere confermato perché non mi ricordo mai i titoli dopo che li ho messi per cui è abbastanza problematica la cosa intanto aspetto che qualcuno mi fa sapere se si sente e si vede bene perché fondamentalmente se si vede bene è relativamente importante l'importante è che almeno si sente fatevelo sapere dalla diretta comunque in ogni modo stasera rispondiamo a questa domanda perché comunque è una domanda importante perché giustamente c'è più di una persona che mi dice senti io ho questa situazione con la mia fiamma senti cioè diciamo noi abbiamo avuto una storia abbiamo avuto insomma c'è stato questo incontro devastante tra di noi intensissimo fortissimo e a un certo punto poi non si capisce cosa è successo siamo arrivati a diciamo allontanarci cioè si è arrivati proprio che a un certo punto non è neanche che ci siamo allontanati cioè siamo arrivati proprio a detestarci detestarci terribilmente ok per cui avendo questa situazione avendo questo diciamo problema mi sembra interessante diciamo trattare la questa 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 eventualità questa possibilità del perché due fiamme possono arrivare a detestarsi e rifiutarsi a vicenda ok e questa diciamo che come sempre nei miei video questa la risposta a questa domanda toccherà vari aspetti per cui parleremo questa sera di questa cosa qua e grazie di ma passare per lo spunto grazie mille perché effettivamente mi sono reso conto per rispondere a domande di fatto in privato che poteva essere un ottimo spunto per un video quindi stasera lo trattiamo intanto se è la prima volta che vedi un mio video sulle fiamme gemelle qualcuno mi ha definito il salvatore arazzulla delle fiamme gemelle e addirittura perché avrei fatto una un video di risposta a quasi qualsiasi domanda dello scivolo umano sulle fiamme o probabile a questo punto dopo anni per cui magari facessi soldi che ha fatto arazzulla vabbè siamo aperti ma come è un'affermazione verale anche quelli della vita servono sarei voluto più tranquillo su molti aspetti comunque detto questo massimo rispetto di arazzulla perché insomma è stato uno che ha saputo cogliere un periodo nella fase storica dove determinate cose non c'erano ha saputo rispondere dei bisogni più che grezzamente più che greggiamente e insomma giustamente ha ricevuto poi un compenso per quello che ha fatto bravo arazzulla niente da dire dicevo quindi sono oggi mi fascina se la prima volta che seguo il mio video mi occupo principalmente essendo allora per chi non lo saggiava quasi tutti lo sapranno già quelli che mi seguono però perdonatevi se mi ripeto ma ci sono sempre persone nuove che si aggiungono sono l'ipnologo principalmente la via diciamo area professionale l'ipnosi poi in realtà neanche tanto perché ormai cioè spazio e spaziato talmente tanto le cose e poi parlo ormai talmente tanto le fiamme gemelle che l'ipnosi effettivamente è ormai quasi un satellite della mia attività però tecnicamente io nasco come ipnologo per cui sono un ipnologo e un coach professionista che si occupa di cercare di fornire alle persone che si trovano in un percorso di fiamma gemella soluzioni e strumenti pratici e anche dei principi del diciamo delle richiamole linee guida anche se percorso di fiamma non è un qualcosa che puoi vivere meccanicamente ok perché chiaramente ogni esperienza di fiamma e soggettiva ogni incontro che si ha con la persona che pensiamo sia la nostra fronte parte a chi sentiamo pensato che le di complesso discorso però con la persona che noi identifichiamo in quel momento come fiamma gemella è un percorso a sé per cui anche inutile compararsi al percorso degli altri ma allora dice perché fai dei video generalisti se ogni esperienza è diversa perché comunque attraverso i tanti tantissimi anche troppi video che ho fatto qualcuno può in qualche modo riconoscersi riconoscere perché questo mi succede spesso come lo scrivano delle dinamiche che sono proprie di quella situazione che gli sta accadendo in questo momento magari neanche sa che l'incontro con la fiamma gemella perché magari lo scoprirà lo scopre proprio con questa questa esperienza qua e riconoscendosi magari delle dinamiche che il questa incontro questa avvolta relazione dimostra vedendo le mie video può riconoscere delle delle dinamiche magari comprendere meglio che cosa diamine sta succedendo perché se sei impazzito meno ti preannuncio che non sei impazzito impazzita tranquilla e quindi riuscire un po' a rientarsi in questo percorso che fatto da soli è difficilissimo come possono sicuramente commentare e confermare gli afficcionados che sono quasi tutte le mie dirette a seguire insomma per terri su youtube quando faccio la diretta a qualsiasi ora del giorno e della notte senza preannunciarlo se non con mezz'ora prima possono confermare che insomma è un'esperienza tosta 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 che io bevacchio per cui c'è bisogno magari di un sostegno c'è bisogno anche di confrontarsi con altre persone per rendersi conto che non sei impazzito che insomma la situazione è abbastanza particolare detto questo quindi mi occupo di fornire soluzioni e strumenti a chi è a questo percorso attraverso un percorso che ho creato insieme a rimagnetizza la fiamma generale la tua vita l'ho creato qualche anno fa e che va avanti a gonfiere direi sempre di più con più iscritti e con risultati sempre più belli man mano per campo il campo morfo genetico del rimagnetizza la tua fiamma generale la tua vita cresce e poi mi occupo di tantissime altre cose legate al mondo energetico ad esempio sono master reiki quasi mi vergogno a dire sono master reiki sono un lettore dei registi acasici quindi faccio lettori dei registi acasici lavoro anche con i fiori di pack e con altre tecniche diciamo energetiche e da qui alcune anche che ho canalizzato io stesso che lavoro con matix energetics con i passi access consciousness con i campari tibetali di cristallo sono tutti in qualche modo elementi che lavorano con l'energia quest'anno posso già preannunciarlo inizio anche a lavorare con le costellazioni familiari individuali individuali vuol dire che vengono fatte praticamente due modalità in realtà cioè o in sede dove mi trovo e in tal caso ci mettiamo d'accordo oppure possiamo lavorare molto più tranquillamente lo consiglio online che si può lavorare benissimo ci sono delle modalità per lavorare a distanza individualmente anche perché non tutti hanno voglia di raccontare o mettere in scena di fronte a un gruppo di persone le loro situazioni per cui quest'anno iniziamo anche come novità tra le varie cose perché non mi fermo mai nel 2000 del 2023 sapere il 2013 2023 anche le costellazioni familiari individuali ok qualcuno mi dirà ma come adesso ti metti a fare anche le costellazioni ragazzi ma sono anni 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 che sotto banco mi preparo studio partecipo a corsi per fare questa cosa qua ok iniziando da quando ho partecipato come partecipante delle costellazioni adesso voglio parlare di costellazioni familiari stasera ma giusto per accettare rapidissimamente quando le ho fatte con la traduttrice e assistente personale di bertellinger martina corlock e poi ho avuto ho fatto esperienza anche con queste famose investe che chi è nel mondo delle costellazioni sa che insomma è abbastanza noto collaborare anche con con un'altra persona che adesso lo nomino giusto però un fan di pubblicità anche se mi piace moltissimo come come collega però non lo nomino e poi ha scritto tantissimi libri sulle costellazioni familiari uno degli scrittori più prolifici insieme a eliger su cui intanto la persona devo dire mi piace discretamente e non è l'unico che ne parla però insomma partendo da quello poi con altre persone negli anni ho comunque studiato eliger fatto i miei lavori non ufficialmente nel senso non pubblicizzandoli qui sul canale anche se avrei potuto sfruttarlo però non ha senso parlare di un qualcosa fino a che non è pronto stessa cosa che sta da per rimagnetizzare di lavoro per arrivarci per dargli una struttura eccetera fino a che non trovavo un mio modo per lavorare con le fiamme gemelle adesso un mio modo per lavorare con le costellazioni chiaramente non è identico a quello che fanno per tellinger piuttosto che si investe piuttosto che altri perché comunque un mio lavoro di sintesi che include tutte le altre cose nel frattempo fatto eccetera riadattate perché il mio stile è proprio la mia caratteristica come giusto che sempre con di comunque conduttori di costellazione non so modo per cui ci sarà anche questo chiusa parentesi perché vi sono dilungato anche troppo sulle costellazioni ne riparleremo che poi dovremmo parlare di matix energetics che sarà un altro dei focus di quest'anno più altre cose ancora sono in ballo perché in realtà poi ci sarebbero altre due cose che sto facendo per prepararmi per i prossimi anni e ulteriori per cui insomma negli anni li vedrete se mi seguite un sacco di cose in avanti vabbè detto questo chiusa diciamo la parentesi mi occupo di tutte queste cose qua che sapete e però principalmente continuo per adesso occuparmi di femmine gemelle quindi non ti sperate che insomma i video ci saranno sempre che trovo degli spunti perché come vedete ogni video è qualcosa in vero di cui parlare per cui questa sera diciamo se avete seguito da un po' i miei video diciamo che alcune delle cose alcune diverse delle cose vi dirò stasera in qualche modo non sono una strano vita magari le avete sentite le sapete già per certi versi però è utile anche ogni tanto negli anni fare un ripasso delle cose fondamentali e comunque cercare di dtt aiutare che fondamentali e comunque cercare di dtt aiutare cose ok prima di iniziare un paio di indicazioni mettete mi piace al video perché mi raccomando pollicione in su spaccate di mi piace a youtube perché youtube è un meccanismo elettorio per cui più mi piace mettete più il video viene visualizzato ci sono pochi mi piace se non sapete mettere mi piace vi ricordo che dovete uscire dallo schermo intero del vostro cellularino premendo la x per uscire dallo schermo intero vi comparirà la marina e tac pollicione ok molto importante ragazzi per favore mettete mi piace iscriviti al canale premendo il tasto iscriviti se non l'hai fatto quindi prendi il tasto iscriviti poi se sei in chat in questo momento scrivi uno per vedere per chat in diretta scrivi uno nella chat così tengo una statistica personale di chi c'era ok mia personale non perché vince qualcosa poi scrivete due dei commenti se vedete questo video registrato più tardi domani o quando sarà così so che l'avete visto e avete partecipato vedendo solo la registrazione non la diretta ok il numero uno durante le dirette ma credo anche ormai negli shorts perché ho visto che youtube ha iniziato a monetizzare gli shorts prima inizio a farne anch'io qualcuno perché sto raccogliendo un po' di appunti per i shorts di youtube è iniziato a mettere super grazie anche agli shorts di youtube e durante i video c'è il super grazie super super sticker super chat che si attivano premendo il quadrato con la s un modo per fare una donazione con la carta di credo o credo anche la carta post pay immediata per supportare il canale che è un modo di dirvi grazie anche un piccolo modo di dirvi grazie perché se tutti i difetti mi sostengono un pochino io posso continuare tranquillamente mese dopo mese a fare video e concentrarmi solo sul fare video non su fare altro nella vita giustamente però è un modo per creare contenuti sempre migliori perché insomma se seguiti i miei video da un po da quello che mi dite c'è una bella differenza di contenuti rispetto ad altri che trattano sullo stesso argomento poi ognuno c'è il suo stile risuona con altra con alcuni autori come con altri non risuona per cui sono anche molte persone a cui i miei video faccio deve farlo schifo perché sono troppo lunghi io maro l'energia oscura come mi è stato detto i vari gruppi deligratori che parlavano di me ok altri invece pensano che sia un santo io penso di non essere un santo o te uno con l'energia oscura penso di essere una persona che ha alti e bassi luce ombre come tutti comunque detto questo quindi sì però non è che vi dovete scrivere super grazie l'altro modo è acquistare le felpe l'agendina con il quadernino delle fiamme gemelle altre cose ho creato creato anche qualcos'altro che metterò tra poco nel negozio del canale perché ho attivato anche quello un po' di tempo fa poi ci sono che c'è raglia puramente però di questo ne parliamo dopo e adesso basta preaboli perché dopo un quarto d'ora la gente dice un quarto d'ora e non è neanche iniziato e avete ragione per cui basta però volevo giusto aggiornarvi su un paio di novità bene partiamo col super video di oggi quindi appunti alla mano per chi vuole prendersi appunti se no attaccatevi al piffero allora il video di oggi diciamo tratta l'argomento adesso di nuovo terribilmente faccio fatica a ricordarvi il titolo però mi sembra è due fiamme gemelle possono arrivare a rifiutarsi a vicenda una cosa del genere mi sembra giusto e la risposta è due fiamme gemelle possono arrivare a rifiutarsi a vicenda la risposta è assolutamente sì assolutamente sì mi verrebbe da dire anche purtroppo è quasi inevitabile che succeda quasi inevitabile che succeda se non fai le cose giuste anche se il giusto è sbagliato non c'è proprio il giusto intendo dire se non fai delle cose che ti possono impedire anche se il tuo focus non deve essere impedire di che accada questa cosa qua cioè che accada con il fenomeno delle fiamme gemelle che si rifiutano a vicenda tanto cerchiamo di capire anche cosa vuol dire si rifiutano a vicenda e cerchiamo di spiegare come ci si arriva a questa cosa perché si arriva a questa cosa qua cioè le persone che mi scrivono questa domanda mi dicono ok fra noi andava tutto bene c'è una regia pazzesca un'attrazione pazzesca ci guardavamo ci mangiavamo con gli occhi che non necessariamente sì due fiamme possono arrivare a rifiutarsi entrambe o qualcosa del genere cioè che non vuol dire necessariamente che se c'è un'attrazione di tipo capisce a me ecco capisce a me l'avete capito sì non è che siete dei bimbi innocente avete capito che tipo di attrazione anche se è fortissima non vuol dire necessariamente che quel mangiarsi con gli occhi quel desiderio bruciante diciamo di stare di stare di starsi addosso sia necessariamente solo dovuta all'attrazione capisce a me perché perché fondamentalmente se dipendesse da quello cioè la cosa è inevitabilmente destinata a finire inevitabilmente perché perché in quel caso si parla di chimica e la chimica come tutte le cose chimiche cioè dei picchi e poi cioè come qualcos'altro che è finito l'effetto sa sa basta insomma avete capito ok per cui non è quello tant'è vero che una delle caratteristiche delle fiamme che potrebbero potenzialmente mantenere quella proprio quell'energia pazzesca nel tempo chiaramente fatto in un certo modo cioè c'è un perché anche se arriva si può arrivare a questo però è raro è rarissimo è molto tosto ok la cosa più comune poi anche questo ci sono varie modalità di come si arriva a questo però adesso ci arriviamo andiamo per punti perché se no ci perdiamo allora o mi perdo io perché divento confusionario perché poi punturò anche sui vostri commenti allora c'è questo passaggio in cui c'è questo incontro anzi effettivamente adesso adesso che ci penso dato che ce li ho magari le posso utilizzare perché effettivamente sarebbe aspettato un attimo che adesso capirete a che vi riferisco perché così facciamo prendiamo una diapositiva una diapositiva direi più che più che utile ovviamente ovviamente ho beccato tutti i maschi perché sono divisi per tipo giustamente certo vediamo se riesco a beccare le femmine dove sono i bambini ok e adesso già che ci abbiamo abbiamo il fiammo ma le femmine dove sono sono maschi sembrano tutti maschi questi aspettate c'è la mente va beh facciamo finta che questo è una femmina perché a me mi sembra un maschi però va beh ci è andata bene a meno che no questi sono i bambini misteri della fede allora facciamo finta che questo è un maschio e questo è una femmina per comodità che se mi sembrano due maschi tanto ormai va beh diciamo che va bene anche questo allora abbiamo il maschietto e la femminuccia che si incontrano all'inizio hanno questa attrazione pazzesca proprio questa energia che li porta capito a andare l'uno verso l'altro fortissima proprio c'è proprio questo desiderio di fusione che è fortissimo ok non li metto per un orizzontale perché se no diventa ambiguo ok però c'è questo desiderio forte di fusione che è dovuto proprio al campo del cuore di entrambi che li porta a questo desiderio di unione di diventare una cosa sola ok poi cosa succede succede che a un certo punto per qualche motivo inizia una sorta di volta faccia cioè iniziano magari a a girarsi da un'altra parte a non riuscire più a guardarsi e quell'energia forte che li portava prima a essere l'uno diciamo andante verso l'altro poi li porta piano piano a girarsi da un'altra parte allontanarsi a non volersi più vedere iniziano eh non so fa un po' ridere fa un po' ridere però dato che li ho per fare le costellazioni familiari ho detto adesso li uso per il video è stata quasi un'idea improvvisata non è particolarmente non è particolarmente diciamo particolarmente divertente però così mi sembrava carino insomma morale della favola c'è questo allontanamento che si crea fra questi due personaggi fra queste due figure voi ci ridete però il fatto che adesso ridete qualcuno ci ride ci scherza che sto usando i pupazzetti ma in realtà il fatto di avere comunque un supporto visivo aiuta anche oltre alle parole a memorizzare di più il concetto quindi abbiamo praticamente questi due che si allontanano ok cioè arrivano proprio a il gioco è parte dell'apprendimento ragazzi e anche la diversità le cose diverse fanno fanno ricordare le cose meglio di quelle uguali perché bisogna comunque ogni tanto mettere anche un elemento di diversità nei video non è che posso fare i video che faccio adesso come li facevo cinque anni fa no per cui allora dicevo a un certo punto queste due figure iniziano proprio a non sopportarsi cioè iniziano fondamentalmente da oddio è la cosa più bella no ma non sono tipo playmobil sono playmobil proprio letteralmente sono dei per chi non lo sa sono dei pupazzi che vengono fatti appositamente sono stati fatti in Germania per fare le costellazioni familiari hanno si possono chinare si possono piegare si possono prendere per mano comunque adesso è un esempio non è che voglio parlare di pupazzetti ok poi li facciamo sedere facciamo sedere però ognuno che guarda dall'altra parte perché così è lontano quindi abbiamo questi due che si sono amati tantissimo si sono amati tantissimo a un certo punto si allontanano perché si allontano cos'è che succede ok cioè com'è che si arriva a questa cosa qua allora partiamo dal perché si sono uniti cioè perché c'era questa attrazione fortissima c'era questa attrazione fortissima che li portava a volersi unire perché apparentemente anche se sembrano diversi cioè anche se lei perché per me la lei è bionda scusate lo stereotipo e lui si sono uniti perché sebbene possono avere delle differenze di genere o di capelli o di fisicità anche se quei sono uguali ma vabbè ok però in realtà c'è un elemento comune che è l'anima che riunisce e l'anima è sempre 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 sono sempre che l'anima è sempre portata all'unione perché l'anima è un'energia che esprime come attributo l'attributo dell'unione ora uno dei lavori che sto facendo che vi ho anche accennato nei video nel video di un po' di mesi fa è che sto facendo un lavoro sulla ricerca degli attributi di anima cioè cosa vuol dire vuol dire che chi in qualche modo si avvicina ad essere allineato ad anima esprime dei valori dei comportamenti delle convinzioni che vanno diciamo a supportare la presenza di anima nella sua vita l'opposto di questi comportamenti invece denotano una mancanza di allineamento all'anima ok allora quando abbiamo una situazione di unione cioè quando si cerca in qualche modo di creare armonia unione abbiamo sempre una manifestazione della presenza di anima potremmo dire se fossimo anche delle considerazioni familiari del campo ok in questo caso all'inizio della relazione di fiamma c'è questa attrazione fortissima perché c'è un'attrazione forte perché viene da una cosa che era l'opposto di questo perché come abbiamo detto essendo nel mondo della dualità abbiamo detto in vari video essendo nel mondo della dualità che è il mondo della separazione nel mondo della separazione poiché l'energia della separazione è tutta attorno a noi al massimo qualcosa che originalmente era una cosa sola era un'anima unica unita si è staccata si è divisa in due corpi apparentemente divisa ma che in realtà sono un'anima unica per cui comunque proprio perché c'è la massima espressione dell'energia cioè l'energia della separazione è arrivata al massimo ed è al massimo perché le due fiamme sono arrivate addirittura a scindersi fisicamente da un'unica assenza abbiamo avuto due ok per cui nel momento in cui la separazione è arrivata al massimo inizia e poi diventa sempre più forte l'energia opposta che è quella di unione quindi le due fiamme che si sono diciamo separate mentre sono entrate nel piano materiale piano piano spinte da un'energia di anima si avvicinano si avvicinano si avvicinano si avvicinano sempre di più fino a cercare un'unione che nel momento dell'incontro e del riconoscimento quando si guardano uno di fronte all'altro si guardano uno di fronte all'altro e dico io ti vedo io ti riconosco ma in realtà non è che se lo dicono è l'anima che lo dice a se stessa perché vede se stessa di fronte a sé vede se stessa di fronte a sé praticamente si si sente completa sente che c'è tutto sente questa energia di unione fortissima che li porta appunto a voler diventare una cosa sola abbracciarsi diventare fondersi una cosa sola chiaramente è impossibile fondersi fisicamente perché perché fondamentalmente ci sono due corpi fisici diversi ma la sensazione è quella di unirsi ok quindi c'è questa energia di attrazione fortissima ora il problema è che così come l'energia di separazione di divisione di dualità è al massimo e una volta arrivata al massimo può solo invertirsi quindi chiaramente quando l'allontanamento è al massimo inizia l'avvicinamento al tempo stesso quando l'energia di attrazione è al massimo al massimo al massimo inizia a nascere quella di allontanamento per cui cosa abbiamo abbiamo due persone che per un po' dialogano si uniscono stanno insieme si capiscono senza parlarsi hanno il desiderio di parlarsi in continuazione hanno il desiderio magari di fisicità di stare in presenza l'uno dell'altro di condividere tutto poi a un certo punto quello che succede è che piano piano si inizia a creare un qualcosa cioè si sente come un campo di forza un muro che li allontana ok non riescono più a stare sulla stessa frequenza perché perché si è intromesso un terzo elemento che non è il terzo carmico ma utilizzeremo il mio dito per comodità che non è il terzo famoso terzo carmico ma è come si chiama è l'energia della polarità della paura cioè arriva un qualcosa un elemento la paura quindi la componente mentale che porta a un certo punto la disarmonia cioè che porta le due figure che forse se metto se metto magari un supporto sotto si vedono probabilmente giustamente magari se le mettono di fronte all'altro si vedono ma che non si vedono la mazza perché non entro nella telecamera ok cioè se metto un elemento oddio mi sono cascata mi se metto un elemento che porta le figure allontanarsi tra di loro ok perché perché la mente ci fa fare diciamo il patatrac ci fa fare un cioè ci mette dei dubbi ci rende difficile fidarci dell'altra persona ci rende difficile riuscire a stare con quella persona ecco ho fatto un mini palco aria a basso anche così si vede meglio ok questo incontro inizia in qualche modo a essere più difficile cioè si inizia in qualche modo a portare le spalle l'uno all'altro ok ora perché si arriva praticamente al all'allontanamento si arriva all'allontanamento perché nel momento in cui noi siamo in anima e quindi siamo nell'energia di amore perché anima è amore ok l'energia di amore porta le persone a unirsi a stare vicine a stare in armonia l'energia della mente energia opposta a questo tipo di approccio ok cioè quando noi siamo nella mente quindi subentra il dubbio subentra la paura noi stiamo invertendo l'energia quindi andiamo fondamentalmente in un'oscillazione che ci porta allontanarci sempre di più quindi quei due che prima non potevano fare a meno di stare a contatto l'uno con l'altro iniziano a fare sempre più difficoltà a stare diciamo vicini l'uno all'altro iniziano a subentrare problemi di comunicazione una cosa tipica fra le fiamme sono i problemi di comunicazione cioè sembra che si parlano due lingue diverse cioè prima non c'era bisogno di parlarsi perché l'energia diciamo era fortissima poi l'energia in qualche modo inizia a non arreggere più a non diciamo a non essere più sostenibile ok cioè non era sostenibile neanche all'inizio perché era fortissima però si fa sempre più fatica a stare in presenza l'uno dell'altro ok perché perché fondamentalmente si inizia a non fidarsi più di quello che si sente cioè prima si sentiva questo amore grandissimo questa energia di espansione gigantesca e contemporaneamente di esclusione che era di esclusione di inclusione ok che è una cosa un po' strana che succede con le fiamme ok cioè cosa vuol dire da una parte senti che quando sei con la tua fiamma sei espanso sei cioè senti questa cosa enorme grande grandissima in te con questa persona dall'altra parte senti che come se state uno a bolla famosa bolla d'amore come la chiama qualcuno cioè uno spazio solo vostro quel posto che non c'è citando Elegra Amaro una canzone di Elegra Amaro in cui come sempre come citando quella canzone in quel posto che non c'è è lasciato solo me cioè praticamente c'è uno dei due che tendenzialmente rimane o vorrebbe rimanere in quella sensazione di bolla ma un altro che ha un po' meno energia che ha un po' più difficoltà a reggere quell'energia perché è più nel mentale inizia inizia a un po' allontanarsi quindi c'è in qualche modo un allontanamento ok cioè c'è un quelli che dove erano destinati destinati per una parola tra virgolette a stare insieme cioè che sembravano proprio inseparabili iniziano in qualche modo allontanarsi perché l'energia della mente è l'energia che è l'opposto di quella di anima quindi l'energia di disunione di separazione di allontanamento perché? perché le polarità si sono invertite la polarità diciamo nel percorso di fiamma questa cosa può avvenire di solito in due modi in due modi modo numero uno può essere netta cioè cosa vuol dire la persona dall'oggi al domani ti amo pa sparito madonna santa madonna santa ok cioè di colpo sparito ma come ci amavamo adesso sei sparito cioè mi sembra veramente strano è qualcosa a cui uno non è preparato chiaramente sono riuscito a trovare qualcuna che somiglia più a una femmina però mi sembra più un bambino una bambina rispetto ad un adulto diciamo che una femmina molto piccola mamma mia vabbè per cui forse perché nel set non c'era non c'erano le femmine forse sono io che non le trovo magari ci sono anche ma sono io che non riesco a trovarle in questo momento compenso abbastanza imbranato quindi insomma eccola una femmina l'abbiamo trovata no sempre sempre uguale sta i tedeschi i tedeschi sono un po' la bionda era meglio sì effettivamente qua sembra veramente un tentativo non posso neanche dire che cos'è perché poi sì ma il problema è che era bionda a me sembra un uomo però vabbè l'amore è anche quello vabbè comunque battute a parte battute a parte come dicevamo a un certo punto c'è uno che se ne va di colpo quindi una delle manifestazioni del di questa energia che in qualche modo è scoppiata è uno che si allontana di colpo e senza preavviso c'è più di una persona che nel percorso di fiamma si è trovato con la propria fiamma che dall'oggi al domani appunto oggi si dice ti amo domani scompare nel nulla che proprio sparisce come se non foste mai stati insieme come se non vi foste mai conosciuti come se non sapeste dell'esistenza o dell'altro cioè si dimentica completamente quello che siete totalmente ok e anche voi vi siete totalmente dimenticati di mettere mi piace per cui pollicione ragazzi dai pollicione su su mettete mi piace il video per favore dai se non sapete come fare premete sulla x per uscire dallo schermo intero dal cellulare dal tablet dove siete vi comparirà il pollicione mettete mi piace è molto importante youtube deve vedere la gente a cui il suo video piace ok quindi dicevo grazie intanto quelli che lo stanno mettendo vi voglio bere grazie stiamo dicendo quindi uno dei modi è con un allontanamento improvviso dell'altra persona che pide e se ne va proprio sparisce dalla resistenza e lascia questa povera bionda questa povera biondo bionda biondo si capisce questo transgender biondo biondo da solo ok seduto qui senza poter far niente l'altra modalità invece è proprio perché abbiamo una natura duale diciamo alternante altalenante cioè ti voglio stiamo un po' insieme poi no basta voglio stare per i fatti miei poi si dai rivediamoci poi basta voglio stare per i fatti miei e la cosa si ripete poi a un certo punto questo dire molla con tirando queste corde che adesso voi non potete vedere però queste energetiche corde invisibili tira 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 a un certo punto tirando tirando anche a te inizia a venirti ad allontanarti quindi in qualche modo diventa progressiva quindi abbiamo queste due modalità quindi o la sparizione totale in cui si tira fuori dalla situazione o il tira e molla queste le due modalità in cui le fiamme arrivano proprio a rifiutarsi ed è un vero e proprio rifiuto perché lo vivi diciamo seguendo il nome della ferita delle cinque ferite appunto che quella da rifiuto come un vero e proprio rifiuto perché lo senti come un vero e proprio rifiuto perché da una parte tu ti senti una parte di te si sente rifiutata dalla fiamma perché non siete più voi ok non siete più voi ok un'altra parte un'altra parte di te rifiuta la fiamma perché perché diventa insostenibile per te stare con la fiamma perché perché ti fa impazzire cioè entra ed esce dalla tua vita oppure piglia e sparisce per mesi anni e non sai neanche dov'è con chi è che fa se ti pensa se non ti pensa ok ora perché questa cosa succede perché questa cosa succede perché è una cosa che di cui ho parlato in video precedenti vecchi di po' di anni fa adesso rispondo alle domande allora non perché succede perché in realtà perché succede ve l'ho spiegato una questione di energia alle fiamme contrariamente a quello che pensano le persone non sono mosse dalle azioni cioè non dipende da quello che fai che dici o che l'altro dice o che l'altro fa ok mi potrebbe essere capitato quasi sicuramente capitato più di uno di voi che la vostra fiamma mi abbia detto senti devi andare cioè devi andare avanti con la tua vita cioè devi andare cioè devi andare avanti ti devi cioè non cioè io voglio stare con te non ti amo non ti ho mai amato quanti di voi la fiamma ha detto io non ti ho mai amato ok e ti dice di trovarti un altro trovati un altro che ti troverai un altro con cui potrai stare ok che ti dice che sei ossessionato ossessionata da lui o da lei ok oppure che in realtà sono innamorati di qualcun altro che stanno con che ne so vogliono stare con la moglie piuttosto che col marito oppure che hanno conosciuto una persona nuova e vogliono stare con lei hanno scelto loro ok tutte cose di questo tipo che comunque quando le senti pa pa ah c'è un cazzotto qua dolorosissimo ok ok qui il cui come ti posso dicere succede che magari la persona ti dice queste cose qua e tu in qualche modo non ce la fai più ti fa male quindi in qualche modo anche tu rifiuti il rapporto con questa persona a un certo livello ok quindi alla fine è una vera e propria ferita da rifiuto perché entrambi in quel caso si rifiutano cioè tu rifiuti la fiamma una fiamma ti fa sentire rifiutato e c'è entrambi ok riprendiamoci le nostre vite sì ce ne sono ce ne sono tante di versioni di frasi di questo tipo ok ora tornando al discorso di prima che succede succede che insomma cioè meglio perché succede questo allora quando c'è a mio modesto parere una sparizione improvvisa cioè quando un altro proprio si toglie dal si toglie dalla relazione improvvisamente nel percorso di fiamma chiaramente la persona che sparisce improvvisamente è quella che ha meno capacità di reggere l'energia intensa fra di voi quindi voi pensate perché di solito questa è la fiamma di polarità maschile che sia la persona più insensibile giusto? che di solito l'idea è che il maschile sia insensibile meno evoluto e tutte quelle altre cose che sento dire in realtà adesso vi dico una cosa che mi sconvolgerà cioè ve la pongo in un altro modo se io e te andiamo a un concerto e c'è la musica troppo alta perché oggettivamente è troppo alta io ti dico guarda Tiziano o Tiziana o Giovanni o Michele o qualunque sia la persona con cui stai parlando senti io me ne vado da qua perché a me la musica da fastidio è troppo alta chi è la persona più sensibile? chi è quella che ha la sensibilità maggiore? esatto quelli che vanno via cioè hanno una sensibilità maggiore all'energia ma che vuol dire che hanno una sensibilità maggiore all'energia ha un effetto più forte su di loro ora più forte non vuol dire che sono più forti di voi o altro semplicemente che hanno una sensibilità particolarmente acuta rispondono particolarmente al campo ok ora uno dirà ma perché tu prima hai parlato di costellazioni familiari perché comunque anche tra le famiglie gemelle c'è un campo per cui a maggior ragione quando ho capito che nelle costellazioni familiari si lavorava con un campo questa cosa mi è stata molto più utile per comprendere le fiamme gemelle le dinamiche delle fiamme gemelle perché se no non si capiscono ok per cui il campo diciamo agisce di più sulla persona che è più sensibile per cui è quella persona che in qualche modo subisce più l'effetto del campo chiaramente di che campo stiamo parlando stiamo parlando di un campo sì sicuramente morfico quello che volete ma soprattutto un campo torsionale che questa è una cosa che è unica non l'ha mai detta nessuno sono stato il primo a dirlo credo al mondo neanche in Italia ok per cui il campo morfico e il campo soprattutto torsionale colpisce di più su quello che scappa ma vuol dire anche che se questo si è allontanato bruscamente cosa vuol dire che il campo stesso l'ha tolto dalla che avevamo la costellazione anche se non era costellazione però è equivalente a un membro della costellazione che viene tolto cioè diventa a tutti gli effetti quello che nelle costellazioni familiari viene chiamato un escluso cioè viene escluso dal rapporto ok autoescluso perché si esclude lui ma in realtà non è un autoescluso perché perché come tutti i sistemi perché quando prendiamo due persone le mettiamo in relazione la parola in relazione non indica la vicinanza fra due persone perché noi pensiamo relazione vuol dire mettere in correlazione due cose no la relazione è l'indice della distanza tra due enti di quanta distanza c'è ok per cui la relazione è sempre un frutto di un incontro fra due elementi tra la distanza di due elementi perché se forse erano uniti perché bisogna mettere in relazione erano già uniti ok quindi siccome questa persona non è da sola ed è all'interno di una relazione di un sistema di relazioni con te chiaramente ma poi in realtà non c'è un te o non c'è un lui perché siete la stessa cosa è la stessa anima però si ha l'effetto di un'esclusione dal sistema quindi vuol dire che l'energia stessa del sistema lo prende con una mano invisibile la mano del fiabologo in questo caso che prende la mano invisibile e lo tira fuori l'energia lo prende lo porta via tu non te la puoi prendere con lui o lei se si è allontanata o allontanato da te perché perché in realtà cioè è l'energia che l'ha allontanata la mano invisibile un po' come quella di Adam Smith che la porta via da te chiaramente poi tu quando quando vedi che questa persona si è esclusa ma sei sempre tu quindi in realtà è escluso una parte di te tu come lo vivi lo vivi appunto come un rifiuto Dio mi ha rifiutato poi ti senti abbandonato perché senti il vuoto perché la ferita d'abbandono è caratterizzata dal vuoto allora Dio mi ha abbandonato e quindi tu stai male perché non riesci a reggere il vuoto ok ciò che l'ha portato via che è l'energia quindi non è colpa della persona che si è allontanata non va incolpato un po' come delle costellazioni non bisogna incolpare i genitori o gli antenati del perché del perché siamo stati vale ok cioè c'è motivo per tutto c'è sempre una causa ok l'energia l'ha fatta allontanare ma l'energia quale la tua l'energia che in qualche modo qualcosa in te ha portato all'allontanamento vuol dire che l'energia è salita troppo cioè cosa vuol dire che si è giunti troppo velocemente al picco di attrazione che era talmente forte e gestibile che ha sparato via l'altra persona ok per modo di dire questo è il motivo secondo me ho questa spiegazione sul perché questa persona si è allontanata chiaramente l'altra modalità è quando invece c'è il famoso tira e molla cioè ci si avvicina ci si allontana 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 vedete che un po' paziente è molto più semplice esprimere i concetti ok ci si avvicina ci si allontana in quel caso secondo me è dovuto al fatto che fondamentalmente c'è un pochino più di bilanciamento cioè cosa vuol dire che l'energia si cresce 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 fino ad arrivare al piccolo però più gradualmente per cui ci sono dei momenti appunto tipo una tarantella tipo una danza in cui ci si avvicina si allontana si avvicina si allontana senza arrivare allo scoppio questa cosa potrebbe potenzialmente andare avanti per anni allora ok allora quando tu ti accorgi per tempo dicendo aspetta stiamo facendo il tire molla quindi si sta creando quel muro energetico che ti impedisce poi di arrivare a toccarmi perché si arriva quando io sono vicino ti posso toccare ti porrei toccare ma non ci riesco perché il muro me lo impedisce ok me lo impedisce di toccarti non ci arrivo non più non riesco più a toccarti come prima quando tu ti accorgi di questo puoi comunque fare qualcosa ok cioè c'è qualcosa che tu puoi fare a prescindere questa cosa poi si inizia a manifestare con la fiamma che ti dice senti non sono più convinto del rapporto però poi dopo sì oggi sono convinto domani no cioè c'è questa oscillazione continua che è comunque manifestata attraverso le parole perché la fiamma ti manifesta con le sue azioni le paure che tu hai dentro cioè siccome il tuo specchio inverso ti mostra quello che tu hai dentro ok soprattutto che temi di più perché perché lo devi lavorare lo devi elaborare cioè devi in qualche modo vedere rendere esplicito il trauma un po' come delle costellazioni quando noi rappresentiamo quei pupazzetti pre-mobile se lo facciamo con quei pupazzetti o d'oggetti oppure se lo facciamo con le persone quando vengono chiamate le persone a rappresentare la costellazione per chi sa per chi si interessa di costellazioni ho fatto un video vecchissimo cioè per farvi capire da quanto io studio le costellazioni i primi video che facevo prima ancora di parlare di Fiamma e Gioenne facevo video sulle costellazioni i primissimi video e non è che c'è la prova perché ci sono le tale date su YouTube potete vedere cioè video sono fatto uno però ho fatto uno bello all'epoca ok per cui è un po' di anni che mi sto preparando e che stavo dicendo cioè viene rappresentato quindi viene mostrato reso visibile il trauma nell'albero familiare nell'albero genealogico la stessa cosa la fiamma ti fa un po' da costellazione per questo la fiamma è il più grande maestro perché siccome sei te stesso ti mostra te stesso a te stesso le tue paure il tuo lato oscuro peccato che non c'è un pupazzetto nero che poteva rappresentare il lato oscuro vabbè comunque ok stavo dicendo quindi c'è questa gradualità nel nel volersi e non volersi questa cosa può andare avanti per anni e qui ci sarebbe una cosa interessante di cui parlare ma ma prima di proseguire prima di proseguire è è il momento di ditelo ditelo è il momento di che cosa il momento è il momento del film porno guardate la posizione ecco no questo fanno il momento dello spottone scherzo il momento dello spottone bene si è bonato si è bonata non si è bonato ti devo prendere a botte no scherzo il momento dello spottone maledetto allora maledetto ma perché maledetto momento dello spottone degli abbonamenti se non si è bonato e ti piacciono i miei video in cui come vedi nei miei video cerco di divertirvi facendo cavolate tipo facendo fare le posizioni improbabili ai pazzetti playmobil delle costellazioni familiari o parlandoti di cavolate però giusto per quantomeno ti ricorderai eh ah si sono meglio di Mastrota sicuramente ti regalo anche un set di pentola se ti abboni forse comunque dicevo oltre a fare i miei video pubblici dove faccio veramente lo scemo avete anche i video un po' più professionali un po' più seri manco tanto professionali che sono i video per gli abbonati i video per gli abbonati fondamentalmente sono un modo per supportare il mio canale il mio lavoro del fare cose stupide con dei pupazzetti davanti a voi no in realtà per fare il mio lavoro di ricerca e divulgazione di contenuti utili per te ok perché in realtà dietro ai miei ai miei video anche se non sembra c'è uno studio molto grande tentare anche di spiegarvi cose che sono in realtà molto complesse di riassumerle chiarirle unire cose che normalmente erano separate fra di loro per farvele comprendere in una forma più sistemica ok intanto nel frattempo i pupazzetti sono morti dopo aver fatto quello che hanno fatto e vabbè la posizione la posizione è fondamentalmente di riposo dopo 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 ma potrebbe essere un'idea però preferirei utilizzare un altro pupazzo che è quello che ho scelto per rappresentarmi ma che non vedrete qui perché non ho usato i mobili ma ho preso un pupazzo dalla Marvel comunque a parte questo che stavo dicendo e tornando al discorso dei spottoni per lo spottone ho creato un servizio di video per abbonati ok per chi vuole supportare il mio canale ma anche per avere dei contenuti diciamo esclusivi per abbonati che vanno a approfondire che vanno a trattare cose che sono parallele comunque legate all'ambito di quello che ho tratto dei miei video ma magari che sono di approfondimento di chiarimento e a volte anche delle cose che apparentemente sono non legate per esempio c'è un video che ho fatto per abbonati un mese ma perché mi era stato chiesto dove ho spiegato come ho imparato l'inglese in un mesetto che ho imparato l'inglese un mese circa poi ho imparato vabbè non a livello che ne so P3 ovviamente che è insomma una delle qualifiche piuttosto però intanto già riuscire a maneggiare l'inglese non è male parlato scritto eccetera poi per migliorarlo per migliorarlo a livello di interprete traduttore ci è voluto un po' di anni però adesso sto a livello di interprete e traduttore anzi sono più veloce degli interpreti e traduttori comunque detto questo dicevo abbonati che supporta il mio lavoro di ricerca e divulgazione di contenuti spero utili per te come questo video e come altri che usciranno durante l'anno abbonati costa 6,99 euro al mese puoi disiscriverti quando vuoi non rischi nulla puoi iscriverti per un solo mese per farti un'idea dei contenuti per gli abbonati e se ti piacerebbe far parte di quelli che appunto sono abbonati al canale cosa ti dà l'abbonamento ti dà accesso alla diretta benzina in cui puoi fare domande e risposte ne abbiamo fatta a un inizio di questo mese poi ti dà accesso a un video di approfondimento appunto che ti dicevo prima su vari tematiche trattate dal canale di solito sulle fiamme gemelle ma non sempre adesso per esempio da un po' di mesi a questa parte da fine diciamo 2022 circa fine 2022 ho iniziato a trattare il tema del come conoscere se stesso no perdono come conoscere se stesso come essere se stesso cioè come essere se stessi togliendo le sovrastrutture che ce li impediscono abbiamo trattato parecchia roba ok parecchia roba partendo anche partendo no perché poi è una delle parti successive però lavorando anche sul discorso dell'ombra ma non solo abbiamo trattato il tema di come essere se stessi lavorando su tanti aspetti per esempio stiamo trattando l'ultimo video abbiamo trattato del tema dell'immagine cioè quanto la nostra immagine la nostra immagine intesa proprio come il concetto di immagine cioè l'immagine che noi ci portiamo all'esterno e facciamo vedere agli altri in qualche modo ci abbia influenzato pesantemente impedendoci di essere noi stessi quindi come disinstallare l'immagine che appunto l'immagine è un'immagine non è vera qualcosa che noi proiettiamo all'esterno che gli altri qualche modo intuitivamente percepiscono ma impedisce fa da barriera per essere noi stessi se questa cosa pensate che non abbia a che fare col percorso di fiamme vi sbagliate largamente perché perché per poter stare con la tua fiamma devi essere più possibile te stesso perché perché la fiamma si accorgerà sempre quando tu diciamo non sei te stesso perché perché lo sente per via del vaso comunicante animico quindi lavorare su tutti questi lavorare sull'immagine sull'antio che è un concetto che ho introdotto nel in questa serie di video peraborate eccetera ti aiuta a velocizzare tantissimo il tuo percorso di rioro con la fiamma ora non è il materiale dei torri magnetizza quelle altre sono altre cose ancora però sono delle cose dei lavori recenti che sto seguendo che sto portando avanti del mio lavoro di ricerca ok e sono dei contenuti molto utili poi oltre a questo ci sono tanti contenuti che ho fatto in passato per esempio c'è un video molto bello con un modo semplicissimo per lasciare andare quindi di rimuovere tutto ciò che ci impedisce di lasciare andare ci sono dei video che trattano su come risolvere i due problemi più grossi che ci sono nel percorso di fiamma ok di cui uno dei due è il tempo cioè come gestire il fattore tempo nel percorso di fiamma che è una delle cose che dato che siete super impazienti non riuscite a gestire e poi l'altro elemento più difficile e non ve lo dico perché insomma un po' di suspense per chi si può lavorare poi abbiamo trattato le sette prigioni della paura quindi abbiamo approfondito la paura abbiamo fatto alcuni che avevano i giochi divertenti esperimenti con le polarità abbiamo lavorato con l'archetipo con l'archetipo femminile quindi come lavorare con l'archetipo femminile e anche quello utilizzando diciamo gli arcani maggiori la simbologia il linguaggio diciamo l'ho chiamato linguaggio macchina cioè utilizzando un certo modo di simboli lavorando si può arrivare a delle risoluzioni molto grosse molto forti molto veloci perché andiamo proprio a toccare quel linguaggio che in qualche modo lavora molto con la componente in coscia e chiaramente per far questo c'è un lavoro di sintesi che ho dovuto fare per poter creare questa cosa molto grande insomma ci sono tanti video interessanti perché in un percorso di fiamma e non solo e non solo perché poi insomma tratterò anche altre cose in questi video per abbonati ne ho trattato e ho spaziato su vari argomenti e ne spazieremo prossimamente magari faremo qualcosa con i prosi eccetera poi abbiamo parlato anche di come programmare un nuovo anno e ci sarà anche l'aggiornamento di questo per programmare un nuovo anno per viverlo al meglio insomma ci saranno tante cose detto questo insomma ci saranno tanti approfondimenti mese dopo mese quindi vale la pena di abbonarsi per diciamo avere accesso a questi contenuti che non sono pubblici ok abbonarti mi permette di fare di più di produrre contenuti non solo legati al mondo delle fiamme e giovede ma anche altre cose che tratto quindi i prosi il fiore di pac eccetera tutte cose che in qualche modo mi interesso di cui parlo ok ne trattiamo anche dei contenuti per abbonati approfondendo ok abbonati mi permette di fare di più di produrre contenuti di maggior qualità e utilità per te perché posso focalizzarmi sul lavoro di ricerca dei contenuti e in qualche modo gli abbonati tra l'altro mi sostengono anche nel fare i video pubblici perché chiaramente se io abbastanza abbonati che ogni mese rimangono abbonati perché tanto la cifra è ridicolo il costo di una pizza al mese questo mi permette poi di avere diciamo la testa libera da altro da dover fare altro quindi poi potrò fare anche i video pubblici con più serenità ok cioè pensate se posso fare questa cosa a tempo pieno ok piuttosto che piuttosto che concentra il miso alto per provare l'apporamento per un mese premendo sul tasto abbonati che vedi accanto al tasto iscriviti ogni video c'è un tasto abbonati quindi una scritta con scritto abbonati per abbonarti se ti vuoi abbonare comunque metto sempre il link anche in chat della diretta cosa che farò ora eccolo qua e poi qui sotto in descrizione sotto sotto gli omili della Playmobil ci sarà anche il link per abbonarti quindi e poi sul mio canale c'è una sessione con scritto abbonati abbonamenti o qualcosa del genere quindi insomma se ti vuoi abbonare i modi ci sono non è difficile ok fine fine spot house intanto grazie a chi si abbonerà perché ne vale la pena a mio modesto parere allora dicevamo quindi siamo arrivati al punto in cui le due fiamme che prima si amavano da morire eccetera iniziano a non sopportarsi più iniziano proprio a darsi le spalle a portarsi le spalle perché perché l'energia della separazione in qualche modo diventa sempre più forte e non è infrequente appunto sentirsi dire dalla fiamma cose del tipo io non ti sopporto più e non ce la faccio a stare con te l'energia è troppo forte mi fai paura mi fai paura no non cambiano niente sono sempre uguali mi fai paura mi fa paura quello che c'è fra di noi non riesco a stare con te non ce la faccio è difficile cioè sei una persona che mi impegna troppo ok cioè chiaramente quella cosa più brutta da dirti è perché una delle cose più brutte che ho sentito dire nel percorso di famiglia non ti ho mai amato ma come se fino a ieri mi scegli che mi amavi ok chiaramente quando ti vengono dire queste cose quando ti vengono dette queste cose il cuore ti si spappola ok però puoi arrivare anche tu a dirle cioè si sente proprio un'energia l'energia che cambia per cui magari anche tu ti trovi a dire o fare delle cose alla fiamma che è la fiamma ufficiale tra le due sotto due sotto due dei pupazzetti cioè ti trovi anche tu a dire o fare cose che normalmente non diresti ok o normalmente non faresti che è anche curioso perché magari all'inizio tu puoi avere un momento in cui sei tu che insegui la fiamma e sei ossessionata poi a un certo punto quando l'energia di repulsione inizia a prendere te e di solito dopo un po' che si è giunto la neutralità invece l'altra fiamma inizia a girarsi verso di te e volerti lei quindi inizia a inseguire e spingere verso di te ok e e non so quanto ti convenga Xola dunque Xola è un nome che non ho mai sentito è particolarissimo a meno che non è un insulto dei tuoi amici che ti dicono sei una Xola dicevo comunque ti puoi trovare il nome del tuo ex cane carino carino per nome dicevo puoi ritrovarti a dire o fare cose che normalmente non faresti quindi o a spingere inizialmente poi tu stessa a scappare o allontanarti o comunque sentire che quasi ti dà fastidio cioè quando inizi a cercarti che poi era quello che tu volevi ti dà fastidio e anche lì vuol dire che c'è ancora energia della polarità della paura ok allora quando succede questa cosa qua cioè quando comunque le fiamme possono arrivare a proprio odiarsi a darsi addosso a vicenda a rifutarsi a vicenda cioè c'è anche il terrore di dire oddio cioè è finita sarà permanentemente così che il timore è che no 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 non ho detto che se non ti cercano le fiamme un attimo di pazienza un attimo di pazienza perché prima di seguire i vostri commenti devo un attimino devo un attimino dire delle cose non sto dicendo questo quindi non mettetevi in chat delle affermazioni che non ho mai detto ok perché come ho detto questo tipo di dinamica varia a seconda delle coppie ce ne sono alcune in cui ci sarà una repulsione immediata da parte di entrambi quindi proprio si rifiutano la vicenda vi date addosso vi allontanate altri in cui tu magari sei ancora innamorato rimane innamorato e l'altro sparisce perché la varia invisibile dell'energia la toglie un'altra in cui c'è il tiro e molla cioè ci sono varie varie modalità in cui si presenta questa cosa ok quindi non è detto che se non ti cerca o se al contrario se ti cerca quando tu invece ti allontari tu siete fiamme o non siete fiamme non date questo valore assoluto ed è qui appunto la cosa che volevo dirvi cioè quando succede questo il timore di solito è oddio oddio cioè è finita oppure oddio potrebbe essere per sempre ok ok ci siamo persi l'amore è finito non è detto non è detto chiaro che questo è uno dei timori più comuni che le persone possono avere ci sta ci sta che un timore è comune questo ok ci sta però bisogna un attimino smettere di ascoltare la voce della paura che ti mette magari quei pensieri nella testa che ti porta diciamo che ti porta a seguire la paura a farti guidare dalla paura ok invece quello che devi fare perché poi normalmente qual è il comportamento cioè focalizzarti come molti di voi che magari mi chiedono se non ti cerca più non è la fiamma oppure se ti cerca è la fiamma non dovete cioè fate l'errore tutti di focalizzarvi sul comportamento della fronte parte quindi cosa fa mi cercano mi cerco pure sono io che mi allontano e scappo o sono io che provo repulsione mi focalizzano su un aspetto comportamentale quello che dovreste fare è fare esattamente come si fa nelle costellazioni familiari ok che è quello di cercare il raccoglimento cioè il primo passo che si fa nelle costellazioni familiari è il raccoglimento cosa vuol dire il raccoglimento vuol dire smettere di dare retta la testa la paura le reazioni immediate i comportamenti all'analisi dell'altro oddio perché per com'è fermarsi chiudere gli occhi portarsi dentro qua nel cuore respirare calmarsi centrarsi su di sé e dirsi ok io sono qua io sono qua sto qui in questo momento adesso perché essere nel momento presente è una delle cose che riconnetta l'anima ok quindi stando nel momento presente il raccoglimento inizi a centrarti su di te cioè quindi devi centrarti su di te indipendentemente da quello che fa la fronte parte cioè se è scomparsa perché è stata tolta dal campo se fa tira e molla con te se a te viene da scappare o ti provi il rifiuto perché puoi provare e puoi arrivare oppure tu avere proprio il rifiuto completo per la fronte parte in questo momento cioè quello che devi fare è fermarti un attimo ricentrarti cioè al di là di quello che mi porta la paura a fare scappare avere dubbi dire che la fronte parte forse non è la fronte parte o dire che non è la persona adatta per me o dire che è uno str un grabbastrdo e robe di questo tipo cioè togliere giudizio fermarti entrare in accoglimento e stare col sentire centrarti nel qui e ora non so se sentite l'energia che cambia quando fate questa cosa qua io la sento anche adesso ok quindi piuttosto che stare sul dolore di quello che ti è stato detto perché le parole contano zero le parole contano zero le azioni contano zero conta quello che c'è qui adesso quando sei centrato su di te quindi devi centrarti su di te questa è la cosa che devi fare questa è la cosa che piano piano inizia a sbrogliare questa batassa per cui anche se o tu senti rifiuto per la fiamma o la fiamma sente rifiuto per te o tutte e due sentite rifiuto o desiderate di allontanarvi o arrivate a odiarvi arrivate a prendervi a male parole a litigare quando prima eravate attaccati come la colla non vi staccava nessuno cioè ti devi centrare su di te cioè devi ritrovarti il tuo spazio sacro per te stesso o te stessa se sei una donna perché devi ricentrarti perché questa esperienza ti ha portato fuori dal tuo bilanciamento fuori dal tuo centro quindi il primo passo che devi fare è focalizzarti su di te e non ti deve interessare quello che la tua fiamma dice né quello che ti dicono i tuoi amici o le tue amiche o i tuoi parenti su quello che la fiamma sta facendo se esce con un'altra se non esce con un'altra se ha chiesto di te se non ha chiesto di te cosa fai sui social cosa mette cosa non mette non ha importanza il focus adesso devi essere tu ok perché perché a un certo punto tu devi centrarti e arrivando a centrarti quindi capendo che è rilevante quello che succede sul piano materiale devi ricordarti che il percorso di fiamma è un percorso spirituale spirituale c'è un percorso che ti porti e passa dalla dimensione fisica alla dimensione animica quindi devi focalizzare la tua energia cioè devi defocalizzare la tua energia dagli aspetti fisici dalle componenti fisiche e materiali quindi comportamentali carattere quello che fa quello che non fa l'aspetto o il fatto che adesso invece ti ripugna ti devi concentrare invece sulla parte energetica e spirituale cioè la parte diciamo che riguarda l'anima cioè devi togliere il tuo focus dal mondo fisico e riprogettarlo non all'esterno fuori da te ma dentro di te dentro di te c'è la tua anima meglio non è che c'è dentro di te la tua anima più sei la tua anima te lo devi ricordare perché la tua anima è l'unico posto dove c'è la fiamma perché la fiamma è la tua anima e la fiamma sei tu ok ed è attraverso la tua anima che tu potrai avere una vera esperienza di relazione anche sul piano fisico con la fiamma perché l'anima precederà sempre il piano fisico ok per cui l'unico modo che hai per fare in modo che la tua fiamma non sia lontana da te non ti dica che deve rifarsi una vita lontano da te o non venga a te la voglia di rifarti una vita lontano dalla tua fiamma non perché questo non sia possibile è possibilissimo però appunto che è inutile agire sulla base di un impulso bisogna prima di tutto ricentrarsi prima di fare qualsiasi cosa cioè viene prima il centrarsi il sentirsi il stare in anima e poi viene l'azione eventualmente sul piano fisico che è figlia dell'essersi ricentrati ok cioè ti devi focalizzare su ciò che vi unisce ciò che vi unisce l'anima ed anima che crea la vera connessione fra le fiamme cioè quello che in qualche modo ti riporta ha quell'unione quella fusione perché l'anima visce sempre ok perché ti permette di vederti che quando sei con la tua fiamma tu ti vedi perché perché siete la stessa cosa ok cioè si sente quell'energia di fusione ed è l'anima e non c'è niente a che vedere con la chimica la chimica sessuale che potete avere uno in presenza dell'altra ok o quanto vi sentivate in amore l'uno con l'altro stavate in calore come si dice ok o quanto scariche di kundalini questa persona ti antidava o ve la davi tu a lei o ve la davate a vicenda che non te la dava mai nessun'altra persona prima di questa persona o non aveva niente a che fare con i segni le coincidenze i numeri doppi i numeri tripli quelle cose in cui si fissano tutti nel percorso di fiamma ah i segni ah le coincidenze ah i numeri doppi i numeri tripli cioè sono fissazioni che non c'entrano niente con l'anima ok cioè quello che conta il fondamentale la cosa fondamentale delle fiamme è l'anima non è non sono queste robe qua per quanto possono avere un effetto fisico sì certo quando le fiamme si incontrano c'è l'attivazione della kundalini sì certo c'è un'attrazione enorme sì certo ci può essere anche una chimica fortissima sì certo accadono coincidenze strane l'energia fa fare cose strane attorno a voi agli animali agli oggetti all'elettronica quante fiamme si sono rotte cose con elettroniche ok però il legame più forte del mondo esiste grazie all'anima ok quella non è niente lo può cancellare neanche che si allontano si allontanano temporaneamente permanentemente vi sposate tutte e due con altre persone non litigate cioè non è che pure che fate la litigata più brutta dell'universo l'anima il collegamento animico c'è essere il collegamento animico c'è sempre cioè non c'è niente in tutto l'universo che è più forte di questo che lo può allontanare o distruggere ed è l'unica cosa che importa l'unica cosa che ti deve importare è l'anima ok perché il percorso di fiamme è un percorso di autoscoperta dell'amore dentro di sé anima e amore per cui finché tu non scopri l'amore dentro di te per te stesso cioè non impari a sentirti amore perché è quello che sei sempre stato o non sei connesso vai e questo vuol dire anche che riconoscere di essere amore vuol dire mettersi al primo posto e amarsi prima di ogni altra cosa anche negli eventi che possono succedere con la fiamma ok sbarellare non è amore per se stessi però vuol dire che non dovete sbarellare il percorso di fiamma non vi sbarella però a un certo punto cioè se sentite che avete iniziato a perdere il centro la direzione cioè a un certo momento devi dire stop ti fermi ti ricentri respiri io sono qua e ti ricordi che tu sei l'incarnazione dell'energia più forte al mondo che esiste che è quella di anima che è l'energia dell'amore ok e non puoi essere amore se non ami te stesso te stessa per prima ti ricordi la diretta che ho fatto poco più di una settimana fa quella sul 2023 quello che devi fare per stare con l'altro quando ho detto che devi prendere consapevolezza che hai un valore grandissimo che sei un mago una maga eccetera eccetera cioè ricordati che tu sei espressione dell'energia più forte dell'universo che quella dell'anima che e sei la cosa che importa di più e sei la cosa che importa di più significa che tu sei la cosa più potente dell'universo sei l'espressione della cosa più potente dell'universo che è l'anima è l'energia dell'amore non c'è niente che è più potente dell'amore divino perché tu sei amore divino cioè tu sei perfetto anche se non lo credi non lo capisci sei perfetto sei perfetto e sei hai un valore inestimabile cioè se hai un valore inestimabile lo porti contento tutto quello che sei per cui devi mettere te stesso come anima al primo posto ricordarti chi sei ricordarti quanto vali muoverti sulla base di quello sentendoti un creatore non una vittima degli eventi che sia una repulsione tua verso la fiamma che sia una repulsione della fiamma verso di te o che sia una repulsione reciproca che ci può essere quella fase molte coppie succede alcune coppie possono arrivare non arrivare mai a avere la fase di separazione se riescono a gestire bene l'energia se riescono a gestire questa danza ma la base per gestire questa danza energetica è ricordare che tu vieni prima di tutto anche della fiamma stessa che non vuol dire che la fiamma è una persona separata da te e tu la devi sottomettere o mettere al secondo posto ma vuol dire che la fiamma non viene prima di qualsiasi altra cosa tu vieni prima di qualsiasi altra cosa sulla base del tuo potere della tua centratura poi decidi come gestire il resto però tu vieni per primo hai un posto in prima fila sei la cosa che conta di più ok hai più valore della relazione anche fisica che potete avere in questo momento con la fiamma che sia una relazione stabile sia una relazione bella armoniosa o che sia una relazione in cui litigate continuamente vi allontanate continuamente fate tira e bolla continuamente vi dite peste e corna vi rifiutate a vicenda vi schifate a vicenda vi insultate a vicenda o qualsiasi altra cosa ok cioè tu vari più di tutto questo vari più di qualsiasi cosa che c'è nel piano fisico di ciò che si manifesta nel piano fisico questo a prescindere a prescindere anche dai errori che puoi aver fatto a prescindere cioè se tu non tieni dentro di te questa cosa non la porti dentro è difficile che riesci a fare bene il percorso di fiamma ok il punto è che molti di voi mettono la fiamma prima di voi stessi cioè che ne so quando la fiamma sparisce per sei mesi poi ti manda un messaggio tu puh corri a rispondere immediatamente no ok che se no qualsiasi cosa sul piano fisico vi sposta dalla centratura invece la centratura la dovete imparare a mantenere ok e come ho detto ogni cosa che tu puoi desiderare sul piano fisico come ho detto nel video precedente della diretta precedente ok viene prima cioè viene viene sempre come conseguenza di mettere te stesso al primo posto di mettere il tuo valore al primo posto di sentirti che tu sei inestimabile di valore e che quindi hai un valore maggiore di qualsiasi altra cosa una volta ho letto un concetto simile su un libro di Simbaldi che mi colpì tantissimo che diceva il tuo io grande è più grande di qualsiasi nazione è più grande di qualsiasi governo è più grande di qualsiasi pandemia questo per citare una cosa recente ok questa frase è una frase di tre righe che sta scritto un libricino di Simbaldi piccolo così tascabile minuscolo però a me mi ha cambiato la vita perché perché mi ha dato una prospettiva diversa una visione diversa un punto di vista diverso che è un po' che è quello che succede anche con le costellazioni familiari perché tu impari a vedere gli elementi nascosti del sistema famiglia cioè ti dà un cambio di punto di vista ti può cambiare la prospettiva e ti cambia la vita ti cambia le percezioni delle cose a quel punto cambia anche il tuo comportamento rispetto al mondo perché niente diciamo del mondo fisico può compararsi a te è incomparabile a te perché non ci sono parole per descrivere quanto tu sei immenso gigantesco potente quando sei incentrato della tua anima non ti spaventa niente ragazzi io quando nel 2020 è successo quello è successo io ho avuto zero paura zero c'era gente che andava in giro che ne so bardata con diecimila cose davanti alla faccia io niente locali affollati noi non avevamo niente anche se già gente si ammalava attorno a me perché ho quella certezza dentro di me quella forza che la esprimevo ok esprimevo l'energia di anima in me una volta che tu riesci a far a manifestare questo nel senso a incarnare questa cosa a incarnare questa questa forza tutto il resto in qualche modo viene magneticamente attratto incluso anche questo è incluso anche la tua fiamma in gemella cioè tutto quello che desideri viene attratto dal fatto che tu ti ami dal fatto che tu sei al centro del tuo mondo che sei il mago del tuo mondo che sei il creatore del tuo mondo della tua realtà del personale quello che dicevo nel video precedente lo ricordate sul 2023 cosa fare per stare con la tua fiamma in gemella io queste cose parlavo questo video è un po' una continuazione per alcuni concetti perché comunque i concetti sono tutti collegati cioè se tu ci credi veramente se tu defini della tua anima se tu credi che questa cosa che ti sto dicendo è vera che ti risuona e sento che diciamo la senti come risuonante veramente con te e so che per alcuni di voi quello che dico vi risuonerà profondamente lo sentirete dentro ok anche la tua anima se tu credi che la tua anima la tua anima ti amerà a sua volta poi non è che l'anima è una cosa separata da te la tua anima cioè si usa la tua anima però in qualche modo in questa fase storica stai ancora cercando di costruire un rapporto con la tua anima perché diciamo che la tua anima ti riama in cambio quando tu inizi ad amarla e fidarti di lei e quindi ad amare anche te stesso perché anima amore tu sei amore e tu sei la tua anima ok e questo fa in modo che l'anima inizi a farti rimagnetizzare tutto quello che puoi desiderare sul tuo piano fisico incluso anche l'involucro della tua fiamma che è la cosa che risuona di più con te perché la fiamma è l'unica cosa nell'universo fisico che ha la tua stessa vibrazione ok non posso complementare mai la tua energia cioè non c'è niente che è più simile che è più risonante con te non simile è risonante con te della fiamma ok ora qualcuno nella chat ha detto ti dedichi a te ma dedicarti a te non vuol dire come farlo tanti che vai alla spa che vai ti fai le foto mentre ti fai l'aperitivo sul mare che viaggi da solo da sola o che frequenti da bella gente quello non è dedicarsi a se stessi eccetera quelle sono cose si utili carine che si possono fare giuste anche andare in palestra fare una dieta un po' come i famosi un po' riproposito quindi sono utili però non è quello prima di tutto essere allineati all'anima vuol dire fidarsi di anima e sentirsi anima dentro che parte proprio qualcosa che viene dal raccoglimento cioè senza il raccoglimento di cui parla pure per Tellinger delle costellazioni non ci può essere per le fiamme gemelle una base di amore per se stessi possiamo chiamare le cose costellazioni familiari ma comunque alla fine sono tutte collegate cioè la separazione è un'illusione come vi ho sempre detto per essere allineato devi partire dal raccoglimento come si fa nelle costellazioni familiari è tutto collegato ok ti devi diciamo orientare sempre di più vicino alla maniera per sentire vicino alla tua anima allineato alla tua anima smettendo di avere spavura facendo magari anche un lavoro specifico con l'energia di anima che io spiego in rimanietizza in rimanietizza perché io in rimanietizza spiego specificatamente degli strumenti per lavorare con l'energia di anima in maniera che tu possa assicurarti di rimanere praticamente permanentemente se fai gli esercizi nella vibrazione di anima con l'energia potentissima perché una volta che tu riesci anche solo un po' di più o di volta un po' di più o di volta un po' di più o di volta un po' di più o di più verso l'anima vedrai che la tua vita diciamo si trasformerà per ondate che ci sarà un allineamento sempre più forte fra te e la tua realtà personale perché non sarai più separato dalla tua realtà una vittima della tua realtà ma sarai al centro della tua realtà nel pieno del tuo potere senza paura perché se sei connesso ad anima non hai paura fidati non hai paura di niente ok e ti sentirai soddisfatto chiaramente un allineamento completo è impossibile perché a quel punto lasceresti il corpo non avresti più bisogno del corpo fisico sarebbe l'ascensione vera e propria però ti puoi avvicinare sempre di più ogni giorno ogni momento un po' di più di allineamento all'anima in base alle scelte che fai delle scelte che fai momento dopo momento ti possono dire se ti stai avvicinando allineando ad anima oppure no ok facendo il lavoro con gli altri punti di anima puoi capire come si fa questa cosa qua ok ma basta anche un piccolo orientamento anche di un grado verso la tua anima guardate che un grado anche in marina un grado nell'orientamento diciamo dei mari è tantissimo perché alla lunga quel grado di differenza ti porta in una direzione totalmente diversa ok più passa il tempo più diventa diversa ok quindi fa una differente enorme nella vita ok e iniziano a manifestarsi poi a quel punto quando tutti i figli della tua anima delle cose incredibili delle cose magiche chi è iniziato a lavorare con le già di anima recentemente mi ha scritto una testimonianza una mia studentessa che sta facendo un rimagnetizio ormai alla fine mi ha raccontato tutti i cambiamenti che ha avuto a tutti i livelli al lavoro con la famiglia con la propria fronteparte al vivo c'è il caldo di giganteschi ok perché l'anima inizia veramente a fare i miracoli chiaramente questo dopo che tu hai iniziato a bilanciare l'energia della polarità della paura che è quella energia che ti ho detto all'inizio che vi portava alla repulsione allontanarvi a non riuscire a stare nello stesso campo ok quindi devi imparare a gestire questa energia che ti fa fare tira e molla o che fa allontanare la fiamma di colpo ok io questa cosa la chiamo bilanciamento ma quello che è fondamentalmente è di attrezzare l'energia polarizzata della paura perché la polarizzazione cos'è la polarizzazione quando non siamo internamente divisi tra il volere e non volere tra il fare e il non fare tra l'essere e non essere ok tra l'essere vittima e poi creatore vittima e poi creatore c'è sempre una oscillazione perché è dualità perché siamo nella dualità è normale fare così ok tra l'amare e non amare tra il fidarci della nostra fiamma e non fidarci della nostra fiamma che poi siamo noi stessi quindi non ci fidiamo di noi ok bisogna neutralizzare questa cosa qua questa polarità cioè bisogna depolarizzare le polarità fino a che fare ridiventare unità una cosa sola un'unione completa ok quasi un cuore una figura non so se si vede sembra quasi un cuore uniti ok questo è arrivare all'unione e non alla fuga e non al rifiuto reciproco di entrambi questa cosa si fa facendo il giusto lavoro energetico che richiede tempo non è facile ok perché nel momento in cui tu spingi solitamente la fiamma si allontana poi magari a volte spingerai e ti allontani tu e c'è questa danza che vista dall'esterno sembra un tirebolla dove ci si avvicina si allontana ma man mano che tu smetti di spingere la fiamma smette di allontanarsi perché la fiamma si allontana perché tu stai spingendo cioè più tu spingi più la fiamma si allontana da te nel momento in cui tu smetti di spingere piano piano la fiamma inizia a orientarsi verso di te perché cosa vuol dire che smetti di spingere che non guardi più all'esterno quindi c'è un altro ma quest'altro piano piano si sovrappone a te si sovrappone a te quindi in realtà tu guardi te stesso fino a che ci sei solo tu ci sei solo tu e sei completo ok non c'è più necessità di avere quella separazione quell'allontanamento quella fuga quel rifiuto cioè l'energia della polarità della paura nel momento in cui tu non spingi più non fa più allontanare l'altro è quello che si chiama il bilanciamento che è un vero e proprio processo alchemico perché le basi sono quelle dell'archimia ok in cui tu cosa stai facendo stai praticamente attuando una trasmutazione alchemica dentro di te dell'energia della polarità della paura la stai trasmutando come il piombo in oro in amore ok che diventa dell'energia della paura e dell'energia dell'amore cioè l'energia opposta della polarità opposta e l'energia dell'amore cos'è? l'energia della tua anima quindi in questo modo tu inizi praticamente piano piano allinearti sempre di più la tua anima fino a che questa cosa non diventa permanente smetti quindi di spingere e di solito se stai vedendo questi video tu sei quella che spinge quella che spinge nella relazione quindi tu stai manifestando l'energia della spinta perché sei quello che in qualche modo un po' più ossessionato verso lo stare proprio con la tua fiamma mentre magari la tua fiamma con te in questo modo non ci vuole stare ok o magari anche tu non vuoi stare con la tua fiamma però prima volevi starci ok ti stai chiedendo perché non ci vuoi stare più vi rifiutate come avevo detto prima all'inizio cioè vi rifiutate la vicenda ok una volta che noi togliamo questo muro energetico lo facciamo cadere lo facciamo scendere alla fine poi questi due si possono rincontrare si possono unire possono diventare una cosa sola ok perché non c'è più necessità di fare quella danza ok quindi potete stare insieme veramente ragazzi mettete mi piace vedo che ci sono pochi mi piace mettete mettete per mettere mi piace togli e triggiate sulla crocetta e uscite da uno schermo intero e poi pigiate sul pollicione dove per uscire manile vi ricordo che potete sostenere il mio canale con una donazione per cui grazie se non l'avete ancora fatto fatelo che è un modo di sostenere questo video è lungo un'ora e mezza quanto sarà ok quindi in qualche modo noi facciamo cadere questo muro di energia della polarità della paura perché la paura come ben sapete è un muro ma l'avete provato cioè provate a fare qualcosa quando siete spaventati siete letteralmente paralizzati della paura non riuscite a muovere cioè come se qualcosa vi impedisse di andare avanti ok una volta una volta che tu hai tolto legge della polarità della paura questo permette alla tua anima di farvi ritornare insieme di farvi stare insieme cioè di fare in modo che i vostri corpi fisici possano proprio essere in presenza sullo stesso palco sullo stesso palco diciamo l'uno dell'altro mentre l'uno con l'altro mentre invece prima non ci riuscivate ok perché perché in qualche modo non si riusciva a stare insieme ok era difficile quindi l'anima riesce a far questo grazie al fatto che tu hai smesso di spingere hai smesso di seguire la paura ok ma chiaramente devi anche stare attento perché questa cosa poi è un processo che è comunque va tenuto cioè non tenuto sotto controllo però lo devi un attimo monitorizzare cioè se nel momento in cui tu inizi di nuovo avere dubbi di nuovo avere paure non ti fidi più di anime inizi a dire ma perché la fiamma fra questo ma perché non mi scrive ma perché c'è trappasi riparte da capo cioè inizi a rispingere inizia a riparte l'ossessione l'altra fiamma cioè la fiamma si allontana perché vuol dire che una parte di te la separi da te la allontani da te perché non ti fidi ok cioè non hai più quella energia di unione ma energia di separazione ti preoccupi di nuovo dei comportamenti e questa cosa è facilissima ricaderci io ci vedo ricadere tanti di voi ciclicamente che mi scrivete con cui faccio consulente che seguite rimanitizzare come ci succede continuamente ok cioè vi perdete di vista l'idea appunto di dover bilanciare energia cosa che magari vi ho spiegato è molto importante capire che questo è un processo graduale che richiede tempo ok per cui non far cioè non lasciarti distrarre da quello che la fiamma dice o fa o anche da quello che ti viene da fare a te improvvisamente perché come dicevo l'energia ti può portare a fare delle cose che non sono comuni per te cioè ti può portare a inseguire la fiamma e ossessivamente a controllare sui social media oppure può portarti all'opposto cioè a scappare a gambe levate a chiudere tutte le porte a non capire perché neanche tu stessa scappi tu stesso tu stessa scappi dalla fiamma o a non capire com'è che prima che lo amavi adesso non lo reggi più e lo odi profondamente che tra fiamme ci si può arrivare anche ad odiare profondamente succede come ha detto qualcuno in certa adesso bisogna togliere l'ego perché l'ego è il grande nemico perché l'ego è la mente e l'energia è di separazione cioè l'ego è quell'energia che crede di essere separato da tutto il resto incluso il creatore incluso l'anima e tutto il resto ok cioè finché basta anche un minimo in cui tu inizi a preoccuparti di quello che la fiamma ti ha detto o inizi a dare importanza alla componente materiale fisica le azioni quello che fa quello che non fa quello che dice quello che non dice che il tic tac si riparte perché inizia a rianimentare alimentare purtroppo la tua energia della polarità della paura ok che non devi assolutamente alimentare perché se le alimenti stai facendo l'opposto di quello che ti ho appena detto cioè quello invece di centrarti su di te piuttosto che guardare all'esterno preoccupandoti di cosa fa l'altro o di cosa fai tu in relazione a quello che l'altro fa per esempio tu che scappi tu che arrivi a rifiutare la fiamma come lei rifiuta te arriva a odiarmi arrivi a odiarlo o a odiarla perché fa il poco serio con te stavo per dire un altro termine però ci siamo capiti ok più alimenti questa energia della polarità della paura del dubbio più chiaramente l'energia per sua natura tende a crescersi per cui se tu alimenti la paura la paura tende a crescere se tu alimenti l'amore l'amore inizia a crescere sempre di più quindi quanto più tu alimenti la paura quanto più praticamente la fiamma si allontana da te e quella cosa continua e poi inizia poi il dolore le mazzate perché poi la fiamma sta con un altro e succede un casino e magari mette incinto incinta incinto un altro insomma procrea con qualcun altro ecco non riesco a fare quelle concordanze o vai sotto oppure vai sotto caccia fate cose strane ok cioè per cui ignora tutto quello che succede sul piano fisico non gli dare importanza ok soprattutto poi domine in dio se mette foto sui social o se mette canzoni sui social e tu ti chiedi chissà perché l'ha messa ma l'ha messa per me e magari l'ha messa per un'altra persona che non sei giù cioè inutile farsi queste domande queste analisi eccetera non serve a niente ok cioè il mondo tutto ciò che riguarda il mondo fisico e anche il mondo dei social media non c'entra niente con le fiamme ok cioè non c'è niente che tu dici pensi o che fai che è rilevante per stare con la fiamma perché per l'anima non interessano quelle cose qua interessano i progressi che tu fai interiormente con te stesso perché è un percorso di conoscenza e di amore verso te stesso trovatevi qualcuno che focalizzandosi e tantissimi si focalizzano sugli elementi fisici quindi segni le coincidenze le cose che la fiamma scrive sui social media sei riuscito veramente a riunire con la fiamma e rimanere unito con la fiamma per lungo tempo no nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno ok se tu invece riesci se tu riesci a rimanere centrato allineato focalizzato su anima centrato su di te sentendo che tu hai un valore immenso inestimabile puoi stare con la fiamma gemella anche fisicamente anche a lungo non ci sarà la separazione la separazione non accadrà non accadrà proprio perché? perché dentro di te non sei diviso non sei separato quindi non c'è quella mano invisibile che te lo toglie dal campo rimane là con te ti guarda ti riconosce un po' come nelle costellazioni familiari quando viene diciamo reintegrato nel campo un elemento che era stato escluso quindi un familiare che era stato escluso nel campo energetico della famiglia un aborto quello che è gli si ridà la dignità e si dice io ti vedo io ti riconosco un po' come nel film Avatar non pensate che nel film Avatar tra l'altro non è che nominava Avatar caso è uscito da poco il seguito nel primo film Avatar c'era quella scena bellissima della gara della ragazza che uno di fronte all'altro si guardavano agli occhi e dicono io ti vedo io ti riconosco che è la stessa cosa che si fa quando riconosci la tua fronteparte animica che sei sempre tu la vedi la riconosci non scappi più non la giudichi non c'è più separazione e te la porti con te nel cuore sempre ti guarda caso come si fa con le costellazioni familiari guarda caso chissà perché me ne sono interessato chissà perché adesso le faccio guarda un po' ok ci sarà un motivo non è che faccio le cose a caso dietro c'è un tipo di pensiero di comprensione più profonda guidata da anima perché la mente umana normale non ci arriva a queste cose io non ci sarei arrivato se non fossi stato guidato da anima e inizio a comprendere determinate dinamiche che per tutti gli altri le vedono separate uno le chiama costellazioni uno le chiama per me è un unico campo animico anzi forse in questo senso sono abbastanza vicino a come ragionava Ellinger perché poi Ellinger l'ha un po' trasferito non solo alle costellazioni alle organizzazioni alla società tutto cioè Ellinger è un genio per me non è l'unico ci sono vari per capirci ok per cui se tu li conosci e la fiamma cioè ti metti davanti a te stesso allo specchio e dici io ti vedo io ti riconosco io ci sono io sono al centro ok invece di preoccuparti di quello che dice fa eccetera di tutte quelle cavolate cioè non sentirai più quel dolore immenso della separazione che ti spacca il cuore dal dolore ok o quei pensieri ossessivi che non ti fanno dormire alla notte che ti provocano gli attacchi di ansia gli attacchi di panico perché ti sei attivata la ferita primaria è una cosa che spiego bene rimagnetizza cos'è la ferita primaria che non è una ferita e non è una delle cinque ferite la ferita primaria non è la ferita una delle cinque ferite principali che sono attivate non c'entra niente con quella roba là molti pensano di aver capito sta cosa non è quello cioè se trovate qualcuno che vi fa fare un percorso tra i vari guru italiani di femme gemelle che vi dicono sì io so qual è la tua ferita principale perché adesso facciamo un lavoro sulle cinque ferite quella non è la ferita primaria di cui parlo io finché non disattivate la ferita primaria cioè non basta lavorare sulle cinque ferite con questi vari guretti e gurette sciamani sciamani che sono in giro no c'è un'altra roba ok che è molto precisa molto specifica una cosa che per adesso spiego solo io rimanditizza ok per come l'ho imparato io nella mia esperienza ok quindi devi capire che il dolore nasce dall'alimentare e dall'alimentare della polarità della paura la devi far morire di fame la devi smettere di focalizzarti su degli aspetti diciamo materiali e fisici legati alla tua fiamma gemella perché se no alimenti l'ossessione ok nel momento in cui non ti interessano più quelle cose quindi smetti di preoccuparti di quello che dice fa o pensa la tua fiamma è quello il momento in cui si avvicina di più a te paradosso è un paradossale sì che la vita funziona per paradossi e paradossi c'è la verità che ti fanno vedere quanto la logica lineare sia limitata che la logica di anima non è una logica lineare di A causa B ma è una logica omnicomprensiva omni-temporale omni-dimensionale che non è per tutti c'è una logica di campo di effetto campo come direbbe qualcuno che però se gli effetti campi sono complessi da comprendere perché devi fondamentalmente pigliare la logica e buttarla buttarla dal cestino non c'è più che per chi ha una mente razionale ma non può affrontare il percorso di fiamma in maniera nazionale in questo senso io sono un po' una anomalia perché ho la capacità di spiegare in maniera razionale lineare chiara fermi di causa-effetto qualcosa che non è di caso-effetto ho la capacità di trasportarvi accompagnarvi arrivare a avere quella comprensione un passo per volta perché non è facile ma non c'è niente di logico in quello che abbiamo detto stasera non c'è niente di logico perché non ha senso l'energia non è che ha una logica si ha una logica diciamo dell'energia però non è una logica lineare ok però se tu ti ritrovi a fare cose che non hanno senso per te che sono di fuori del tuo comportamento abituale ossessionarti provare delle sensazioni che non hai provato con nessuno è chiaro che la logica lì non c'è più subentra qualcos'altro subentra l'energia subentra l'analogia le emozioni capite anche perché in passato mi sono interessato di psicologia analogica emotiva eccetera perché sono tutte cose collegate è un vero e proprio percorso dentro di te un percorso enorme è un percorso di conoscenza della tua anima di te di che cosa sei realmente di come funziona l'energia di tante cose che in qualche modo ho sintetizzato per le fiamme gemelle per aiutarvi a darvi degli strumenti per conoscere profondamente voi stessi all'interno di il magnetizza ok che ti dà tutti gli strumenti che ti servono per imparare come amarti come darti da solo l'attenzione l'amore che tu cerchi all'esterno e che in realtà meriti ma inizia a dartelo tu ok quando inizi a darti tu quell'amore sarà la tua fiamma tra virgolette a tornare da te ok che non vuol dire che se ti cerca la tua fiamma se non ti cerca la tua fiamma non è quello perché lì hai delle aspettative oddio lo faccio così mi cerca no ok tu ti ami a prescindere non lo so che fine ha fatta Carla ti cerchi cioè ti ami a prescindere ti metti al centro a prescindere che ci sia o meno la tua fiamma cioè a un certo punto diventare anche così importante che l'involucro fisico della tua fiamma ci sia o meno della tua vita perché tanto tu sei completo con te stesso ok a quel punto la tua fiamma può dirti qualsiasi cosa può anche dirti che ti odia che ti rifiuta che ti fai schifo eppure pure se te l'ha detto oppure se apparentemente la situazione è in come si dice ti sembra recuperabile è comunque recuperabile perché c'è qualcosa di più forte che è l'anima che violisce ok non so se vi è chiaro il discorso mi seguite mi avete seguito fino a qua per cui questa cosa ti aiuterà a uscire poi dai comportamenti che sono un po' di fuori della tua normalità che avevano così per cui inizierai magari anche tu a smettere di avere paura della fiamma a smettere di cercare di controllarlo di odiarlo perché esce con altre o con altre non esce con te o non sta con te eccetera eccetera cioè smetterai di aver paura di perderlo o di perderla qualsiasi cosa fai poi siccome hai paura di perderla finisci per odiarlo quindi finite per rifiutarvi la vicenda non te capite il paradosso in qualche modo si cerca di controllarsi in vicenda di manipolarsi in vicenda e a volte la fiamma quando hai l'energia della polarità quella della paura perché entrambi siete avvolti nell'energia della polarità della paura finché non bilanciate d'energia quindi fate morire di fare la polarità della paura perché non fate questo lavoro qua cioè la fiamma può dirti anche delle cose che non pensa tipo eh non mi piaci non ti amo mi fai schifo non sono mai stato attratto da te o tratta da te ti devi rifare una vita cioè fatti una vita perché non sono adatto per stare in relazione con te cioè le parole valgono zero quando l'anima si allinea che a quel punto l'energia di anima è talmente forte che vi porterà stare insieme e unirvi a prescindere che siete non è che vi porterà unire siete già uniti in realtà che vi manca quella consapevolezza perché sei messo in mezzo la mente con i suoi dubbi con le sue paure ok cioè la fiamma ti dirà delle cose terribili e tu non gli dovrai dar peso perché dentro di te avrai quella certezza qua nel cuore che l'anima vi unisce cioè a prescindere che l'anima vi unisce che vi fa essere una cosa sola una cosa sola unita che si abbraccia che si fonde ok cioè che siete una cosa sola unita cioè quando tu hai quella certezza qua dentro perché senti il tuo campo del cuore che vibra e che si fonde con la fiamma ok cioè succede che quell'energia è fortissima ok per cui ti dirà delle cose che ti sembreranno terribili che non ti ama che non ti vuole e tu avrai dentro di te quella certezza che non è così perché saprai che le parole proprio per via dei vasi comunicanti che ti uniscono la tua fiamma valgono zero perché conta quello che senti avrai imparato a sentire avrai imparato a fidarti di te fidarti realmente di te ma non perché ti sei creato delle aspettative perché l'aspettativa è già è una cosa emotiva e mentale il sentire è un'altra roba è proprio una cosa che si sente qua forte sì veri hanno dati i famosi premobil ok c'è una cosa che sentirai proprio dentro cioè sentirai dentro di te la verità perché la verità è sinonimo di amore che è l'opposto della paura perché la paura invece è bugie spesso la fiamma ti dirà delle cose che non sono vere che non vuol dire che è un bugiardo ma anche se tu magari l'avrai etichettato come bugiardo l'arcisista o cose di questo tipo ma in realtà se ti dirà o farà delle cose che in realtà non sente e tu ti fiderai di quello che sente invece e uscirai da questo diavolo di dinamica però devi smettere di spingere sentirai dentro di te quando quello che la fiamma ti dice è vero oppure no cioè lo senti per i vasi comunicanti perché così come la fiamma sente sempre se quello che dice è vero oppure no se sei te stesso oppure no così tu sentirai arriverai a sentire quando togli la mente con la paura le ansie le gelosie il bisogno di controllo di possesso iniziare a sentire quello che davvero ti dice quindi anche se ti dice mi fai schifo oppure non ti amo più o rifatti una vita io non voglio stare con te se ti verrà solo da sorrire dicendo io so quella verità la sento la verità è quella del cuore quella di anima quella che sta qua spero vi sia chiaro ok per far questo devi stare allineato ad anima devi fare questo lavoro alchemico che è lungo che è tosto allora siccome questo lavoro è tosto e molti di voi da soli non ce la fanno io per questo motivo ho creato anni fa prima che successe il gran casino mondiale ho creato il percorso di magnetizza la tua fiamma gemella della tua vita se quello che ho detto questa sera in qualche modo ti ha risuonato su qualcosa delle cose che ti ho detto sentite come è vero che qualcosa dentro di te che appunto è la tua anima senti che quello che dico parla alla tua anima se quello che ti ho detto ti parla ti risuona senti che ti fa vibrare senti che in qualche modo la senti come è vero non filtrato con la mente con l'ansieme proprio lo senti dentro allora io ho creato questo percorso che ti aiuterà sempre di più a portare avanti questo questo inizio di percezione che hai dell'anima perché ti senti chiamato chiamata a fare questo percorso con me perché senti che quello che ti ho detto cioè il fatto che tu sei un'espressione di anima che sei perfetta così come sei che sei che hai un valore inestimabile che sei la cosa più importante di mettere al centro non la tua fiamma ma te stesso perché se non hai te stesso come può l'altro amarti ammesso che ci sia un altro perché è una separazione di illusione ok se senti che questo percorso che ti ho delineato adesso spiegandoti un po' di queste dinamiche ti risuone davvero per te che non c'è niente che è più importante nel mondo fisico di te della tua anima di quello che riesci a sentire quando sei allineato il centrato con te stesso allora iscriviti al mio percorso ti darò tutti gli strumenti si fai una domanda poi adesso leggo le cose che avete scritto perché prima volevo finire in testo allora quello che ti consiglio è di iscriverti al mio percorso rimagnetizza la tua femma gemella della tua vita in questo percorso cosa facciamo ti do tutti gli strumenti adesso ti scrivo anche in chat la mail per scrivermi cioè ti do tutti gli strumenti e i principi per fare quello che ho spiegato stasera perché stasera ho fatto maxi riassuntore per farti capire la dinamica ok che si crea e come evitare di creare questa repulsione odio reciproco perché l'energia vuol dire che è troppa che è scoppiata ora nel momento in cui tu hai linea d'anima riesci a gestire piano piano livelli di energia sempre maggiori quindi non c'è più la necessità di scoppiare di allontanarsi di fare bomba esplodere come se fosse scoppiata una bomba ma piano piano ci si avvicina gradualmente 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 piano 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 gradualmente 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 e a quel punto si può camminare mano nella mano si può camminare mano nella mano insieme andare avanti cioè mandare mano nella mano insieme verso un destino comune verso una creazione una co-creazione di un mondo anche migliore perché delle fiamme unite creano un mondo come secondo me vi ho detto anni fa migliore perché perché portano armonia amore luce informazione consapevolezza che non vuol dire fissarsi su io devo trovare la mia missione con la mia fiamma quella è una scavolata che dicono cioè già riuscire ad essere in armonia già aver compiuto la propria missione perché vuol dire portare una quantità di luce amore consapevolezza dopo aver fatto un percorso grosso tosto su di sé che è enorme cioè non si è delle persone comuni si sviluppano i talenti perché quando si lavora comunque togliendo i traumi i condizionamenti emergono i talenti ok un esempio banale ma guardate anche il sottoscritto cioè ogni anno imparo faccio cose nuove costellazioni eccetera cioè emergono sempre di più i talenti chi ha visto i miei primi video avrà visto nel tempo un'evoluzione nel modo di spiegare di parlare dei concetti di chiarire di lavorare con energie cioè chi mi conosce prima ancora che facesse alcune di queste cose visto che ho fatto i temi enormi cioè qualcuno mi conosce da molti anni chiaramente io non posso fare i nomi non voglio esporre nessuno però insomma chi mi conosce da un po' di anni sa che ho fatto un certo percorso ok stavo dicendo quindi c'è c'è tanta roba che emerge che le fiamme portano ok ora per far questo siccome non è facile ho creato questo percorso che rimagnetizza per darvi modo invece di spendere anni e anni impazzirmi lacrime dolore tira e bolla assurdi ossessione eccetera ho creato una serie di principi di strumenti e di cose da fare di istruzioni che ti permettono di imparare a lavorare con la energia di anima di bilanciare la energia della polarità della paura di smettere di ossessionarti di smettere di preoccuparti di tutto ciò che c'è sul piano fisico quindi cosa dice cosa fa la fiamma gemella e c'è una serie di cose che si possono fare ok quello che ti consiglio è di iscriverti al percorso mandandomi un email al mio indirizzo di posta elettronica gbfascinachiocciolagmail.com gdjuventus idimola mdmilano mdmilano idimola fascina come fascina di regno tutto attaccato tutto minuscolo chiocciolagmail.com comunque qui sotto in descrizione c'è la mia email della chat ci sarà registrazione della chat per chi vede questo video ci sarà la mia email comunque la trovate in tutti i video mi scrivete un email dicendo guarda io ho visto i tuoi video oggi mi sono piaciuti mi sono stati utili e vorrei avere maggiori informazioni su questo percorso nel tuo creato che arriva a dietitza la tua maggiore la tua vita e in questo modo diciamo che vorrei avere la possibilità di partecipare di poter sapere e avere maggiori informazioni a quel punto io ti manderò un email con delle domande a cui dovrei rispondere perché così io saprò più o meno se sei adatto o adatta diciamo per fare il percorso ok e poi dopo che hai fatto questo dopo che mi hai risposto ti manderò se sarai selezionato o selezionata ti manderò cioè ti risponderò ti contatterò telefonicamente ci sentiremo telefonicamente parleremo ci conosceremo un po' meglio e poi ti presenterò un po' il percorso ti spiegherò come funziona quanto dura che impegno richiesto insomma tutto quello che è necessario sapere i dettagli e poi a quel punto se vuoi aderire aderisce se non vuoi aderire amici come prima non sono come mastrota che cercherò di vendere un set di pentola una settimana dopo ma va bene così ok tutto qua bene io spero di aver spero di averti chiarito quindi questo è il modo quello che puoi fare per gestire cioè questo è il motivo per cui insomma sperando di aver risposto a questo motivo per cui la tua fiamma e tu magari potete arrivare a incodiarvi a rifiutarvi perché l'energia era troppo alta avete fatto salire troppo repentinamente l'energia e di solito una delle due che è quella più sensibile che spesso il maschile risponde di più all'energia in maniera più magari più netta più marcata rispetto a te ok per concludere quindi sto riassumendo i concetti principali e poi a quel punto l'unica cosa che puoi fare piuttosto che odiare la tua fiamma avercelo con lui rifiutarlo o essere rifiutato o rifiutato a sua volta invece centrarti riportarti su di te iniziare a bilanciare l'energia della polarità della paura stando con quello che emerge quindi riconoscendo quello che è come dire bene cioè riconoscendo le emozioni che emergono le paure che emergono elaborandone lavorandoci lavorando soprattutto la legge di anima come spiego io perché non basta semplicemente risolvere i tradici anche altro da fare c'è proprio un lavoro da fare con la legge di anima a quel punto anima è libera una volta che avete tolto questo muro di paura di dubbi di separazione che crea l'ego avete tolto il muro dell'ego vi può permettere di stare insieme anche sul piano fisico in maniera armoniosa ok questo è il processo che bisogna fare però è molto più complesso perché poi ci sono le tre chiavi di cui ho parlato per riunirsi una serie di cose ok molto 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 in sintesi questo è quello che c'è da fare se vuoi sapere come si fa nel completo nel pratico posso accompagnarti posso seguirti tramite rimagnetizza che è il mio percorso quindi contattami e trollevano la soluzione vi ricordo anche che io offro sessioni di costellazioni familiari come ho appena detto non certo stasera vatics energetics fiori di bac consulenze di fiori di bac consulenze per chi non vuole fare un percorso vuole solo fare delle consulenze una tantum o comunque qualche consulenza ogni tanto per la situazione con la propria fiamma letture di cartomantiche letture numerologiche della data rinascita numerologia di coppia il taglio delle gavi energetici e tante altre cose che faccio adesso sono un po' stago iniziano a ricordarmi più quali sono però insomma ci sono tante cose che possiamo fare contattatemi una soluzione in qualche modo la troviamo prima però di salutarci e di ricordarvi anche per rimanere in contatto con me anzi ve lo ricordo mentre leggo le domande per rimanere in contatto con me ci sono la mia pagina professionale Jimmy Fascina Ipnologo su Facebook il mio gruppo l'improsi regressiva il mistero delle fiamme gemelle su Facebook il gruppo pubblico che ho creato cioè privato cioè un gruppo chiuso ma pubblico per chi è un percorso di fiamme vuole un gruppo di assistenza serio non quelle psicosette della quarantena gestito dall'uomo della quarantena che girano su internet purtroppo chi vuole capire capisca o ha robe di o siete simili dove c'è gente che non c'ha manco la foto di profilo finge di avere un secondo profilo con la sua fiamme da una donna quando in realtà è sempre lui e si capisce che si addirittura crea un profilo pensate che schizofrenici che ci sono in giro creano gruppi di questo tipo quindi psicotrappole come le chiamano psicosette perché l'Italia è pieno di psicosette una famosa insomma un po' di anni fa è stata pure diciamo sotto inchiesta è finita da ancora ma ce ne sono tante altre tipo Davenworth cioè insomma se si chiama della storia delle psicosette in Italia e della P2 eccetera ce ne sono milioni del resto abbiamo la prima psicosetta del mondo che è la sacra romana chiesa questo per dirne una probabilmente un tanto rispetto per comunque per l'altissimo però un conto è la chiesa un conto è l'altissimo ma lasciamo perdere diciamo ho tolto questo insomma è un gruppo di persone che in qualche modo possono supportarvi è un po' più normale non c'è gente che si piangere addosso perché se li vedo piangere addosso li va solo cerco di riportare un attimo di sanità in cui chiaramente nel mio gruppo ci trovate tanti video perché nel mio gruppo è normale ci trovate i miei video che vi aspettavate di trovarci video di Mago Zulli per cui quello è un gruppo di supporto per le Fiamme Giovelle ok poi c'è il mio profilo personale di Facebook se volete dialogare con me chiedermi l'amicizia eccetera che è Jimmy Fascina Jimmy Fascina non Jimmy Fascina Registri Akashici che è un secondo profilo che utilizzo per promuovere diciamo le mie attività eccetera ogni tanto non devo di tanto un po' che non lo utilizzo lo devo riattivare cioè non è che l'ho disattivato l'ho attivo ma ci longo pochissimo su quel profilo però ce l'ho poi anche Instagram che non uso più per leggere che per scriverci comunque ho anche Instagram come Fascina Jimmy no no cioè ho TikTok ma non lo uso per cui abbiate pietà ma non riesco proprio a trovare la forza di usare TikTok anche se non c'è gente che addirittura ci sta diventando ricca e famosa facendo gli short sulle fiamme boh veati voi io no non ce la faccio perché non è un formato per me perché come vedete sono molto dilungante e questi sono i modi per contattarmi e rimanere in contatto con me e anche commentando i miei video mi raccomando anche quello è un modo per rimanere in contatto con me detto questo quindi adesso vediamo domande e commenti vari perché oggi non vi ho seguito di striscio per cui putto un occhio se c'è qualcosa interessante c'è Valentina c'è Valentina che spesso da quando la conosco non fa che lamentarsi della sua situazione della sua fiamma non capisco perché sei in questo loop cioè sei lontanissima d'anima quando fai così Valentina ti sembra di essere connessa d'anima quando fai così sono anni che ti conosco però vedo che proprio non ti sposti di una virgola sei così cucciuta che continui a rimanere là dove sei attenta tu si vede che sei felice così e ti va bene così andiamo avanti se non credi che tutte le fiamme si riuniranno sì ok neanche io ci credo ma non è importante non si riuniranno magari adesso però col tempo piano piano discorso dello specchio inverso vale anche per le anime gemelle che sono passate vicino a noi no discorso dello specchio inverso vale solo per la tua fiamma gemella solo la tua fiamma gemella e il tuo specchio inverso però il discorso è più complesso perché secondo me la fiamma non è una però il discorso è più complesso adesso ne ho già parlato in altri video non mi va di ripeterlo Valentina dice che a volte ci sono problematiche troppo pesante e troppe diversità la diversità è rilevante ci sono fiamme che abitano all'altro capo della terra e si sono riunite sposate o una studentessa personalmente che la cui fiamma viveva all'altro capo della terra non parlava la sua lingua eppure si sono eppure lui è venuto qui in Italia e sono sposati fate un po' il conto ed erano di età diversa con una vita diversa con una famiglia diversa con una lingua diversa probabilmente anche di una religione diversa questo non me lo ricordo situazione economica diversa nazionalità diversa chilometri 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 in altre nazioni eppure magia di anima anima è riuscito a farli unire la diversità non ha importanza irrilevante tutto il discorso che ho fatto stasera a te ti è entrato da un orecchio da un orecchio ti è uscito idem le problematiche troppo pesanti ci sono fiamme che hanno problematiche molto pesante a livello fisico malattie incurabili eccetera eppure non vuol dire niente siete troppo focalizzati sull'elemento materiale se siete troppo focalizzati sulla materia vuol dire che siete nella paura punto fine cioè non c'è proprio neanche da aggiungere altro siete troppo nella paura materia uguale paura caratteristiche materiali focalizzarsi sulle differenze caratteriali eccetera vuol dire che avete ancora paura fine non c'è altro da dire gli ultimi video parabolati sono pazzeschi grazie grazie nel 2023 si rilano in tanti non credo Carla le profezie di riunione delle fiamme a me mi hanno sempre fatto ridere ogni volta le ho perculate prendi altri due e cambierai su avvenienti con pazzetti Jimmy non è mai successo che due fiamme ma tra di loro si fidanzassero per una fiamma un figiale si è successo è successo forse l'ho anche accennato è successo due persone che si sono conosciute facendo rivagnetizze e si sono messe insieme altro non mi vea di dirvelo però è successo ci dico che fiamme vabbè almeno conosce il percorso forse lo conosco Xola allora a me è capitato che due miei studenti e studentesse si siano messe insieme credo che altre persone conosciute nei gruppi di fiamma si sarà successo non credo che non sia successo sì probabile probabile secondo me Valentina dice secondo me con il senno di poi è meglio lasciar perdere fin da subito se si capisce che la sua vita non ci va bene se la tua vita non ci va bene vuol dire che è un giudizio verso l'altra persona Valentina infatti quando ti conosco sei stragiudicante cioè non fai che dire che l'altro è un bastardo eccetera finché tu giudichi crea una separazione poi non ti stupire che la tua fiamma non vuole stare con te comunque ok dei fiammi non hai ottenuto nulla chiediti perché chiediti perché ti sei fissata sulla roba ma non perché ti sei fissata su quella persona perché ti sei fissata sul fare sempre le stesse cose essere convinta sempre delle stesse cose aver paura sempre le stesse cose Valentina ok la bionda rimane sempre sul pezzo e a mappa o fai laboramento Valentina vedrai che poi otterrai otteni qualcosa anche rimaniatizza vedi anche che le cose adimi poi segui Jimmy ma Valentina mi segue da una vita solo solo che a differenza tua tu hai fatto le cose che ho detto lei no quella è la differenza perché lei è convinta delle sue idee non vuole cambiare e quello è il problema solo se pensiamo che l'amore sia finito sta vincendo la mente è vero Anna bella frase se pensiamo che l'amore sia finito sta vincendo la mente questa è una frase che dovrei veramente a volte quando le persone ti insegnano qualcosa è molto bella come frase me la scrivo come frase da ricordarvi perché mi piace molto mi hai dato l'illuminazione del giorno Anna grazie è vero che l'accoglimento ci dà la compostezza più profigua di leggere in due sì esatto Michela esattamente salta alcuni commenti che sono abbastanza ridondanti e inutili il compagno della mia prima fiamma mi fa ridere a volte penso tesoro non parlo che è meglio vabbè se non si fa le domande se non ti fai le domande si sente grazie se lo è e non ti fai le domande si sente se è la tua fiamma e non ti fai le domande si sente che è la tua fiamma beh sì di solito si sente quando togli la mente Bardo dice la percezione di un danno letale reciproco è una prova durissima ed è un messaggio difficile da comprendere col cuore eh lo so perché ci abbiamo tutti il chakra del cuore danneggiato danneggiato bisogna fare un lavoro di riparazione del chakra del cuore io stesso per anni ci ho dovuto lavorare adesso inizio un pochino ad averci un pochino più riparato un pochino rispetto anni fa anni fa c'era proprio spasciatissimo ce l'abbiamo tutti spasciatissimo perché perché fondamentalmente tutti abbiamo una ferita nel cuore abbiamo tutti una componente narcisistica perché abbiamo tutti i danni dell'amore ma chi è che ha vissuto l'amore ricevuto dai genitori nella maniera sana cioè se noi avessimo ricevuto l'amore della nostra famiglia dal nostro albero genealogico e tutto il supporto che dovevamo avere cioè cose come le costellazioni familiari non esisterebbero che ci tiene farebbero a fare idem la psicoterapia non esisterebbero io non dovrei fare quello che faccio lo faccio perché evidentemente abbiamo una marea di ferite siamo tutti sfasciatini soprattutto nel cuore ok io desidero allontanarmi dice Valentina quando si inizia a parlare dei figli perché hai paura di essere mamma chiedi perché hai paura di essere mamma hai avuto una brutta esperienza con tua mamma sei stata massacrata dai tuoi come figlia hai paura di crescere perché fare figli simbolicamente per molte persone vuol dire diventare adulti se uno ha la ferita d'abbandono chi ha la ferita d'abbandono è l'eterno bambino si trova molto bene con i bambini ma magari ha paura di fare figli perché ha paura di crescere quindi rimane bloccato infatti da quando ti conosco prendi la sua in bloccatina infatti tu secondo me hai una ferita d'abbandono enorme ok infatti parli 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 tanto quindi vuoi il fatto di voler parlare vuol dire cercare attenzione vuol dire voler essere vista voler essere vista è negli alcari maggiori la stella la stella è padre sole guardami perché sono al buio quindi non c'è il padre ovvio che è il sole sono al buio allora cerco di risprendere per farmi vedere per farmi notare quindi ferita ad abbandono sì ok Serena dice ogni volta che mi sento mi sento che mi sento spariscono tutti i dubbi e paure cioè sono fiducia amore perché senti anima Serena brava tra l'altro stai iniziando a imparare chiaramente un percorso il percorso verso la fiducia verso l'anima è un percorso ok la fiducia in me dura sia e no due giorni perché hai delle ferite è normale Valentina devi lavorare su di te ma devi lavorarci veramente ok cioè se ti fidi per una volta invece di essere diffidente cioè lavoriamo insieme magari qualcosa cambia però ti devi affidare a me un minimo sono anni che mi segui però sei sempre là cioè sto leggendo i commenti mano a mano per cui se mi state anche insultando sotto non lo leggo quindi non approfittatele perché ci devo ancora arrivare sotto i segni sono cose esterne dall'anima sì esatto però devi arrivare dice Anna però Anna Rendina però devi arrivare per arrivare a questa consapevolezza anche lì c'è da fare un lavoro perché inizialmente le persone quando vedono i segni cercano delle conferme cioè i segni sono conferme a cose di cui ti sei convinto però non necessariamente le cose di cui ti sei convinto mentalmente sono vere ok sono cose che tu vuoi per conferma perché tu cerchi una conferma cerchi una conferma di quello che tu credi ma in realtà non ci credi fino in fondo perché se tu credessi veramente fino in fondo a quella cosa avresti bisogno dei segni o avresti bisogno delle conferme se hai bisogno di una conferma hai paura quindi vuol dire che in te l'energia che è ancora forte è quella della paura quindi tutti quelli dei gruppi che cercano segni che cercano la residenza sono tutte persone che hanno paura e che in realtà non ci credono veramente non si fidano veramente cioè il percorso che dico io che è invece molto più difficile infatti io sono assolutamente non popolare e non sexy in quei gruppi di mentecatti perché per me sono mentecatti che si fissano sull'analisi dei segni oddio la mia fiamma ha detto X oddio quando ho visto un gatto che aveva gli occhi della mia fiamma uguali a quelli della mia fiamma è un segno un signore mi ha sputato in faccia un signore anziano che camminava per strada a un certo punto si è girato verso di me e mi ha fatto così perché stava sgraccando per il suo amico l'ha chiamato Franco che casualmente è il nome della mia fiamma è un segno questi mendicati qui purtroppo sono pieni di paura ancora sono pieni di dubbi se aveste certezza in anima che il percorso che faccio io che spiego io non avreste bisogno di questa roba qua io infatti in quei gruppi sono odiatissimo parlano male di me dicono che non capisco niente non è proprio così perché io non opero dalla polarità della paura con le altre persone sì ok però è importante capirle queste distinzioni perché se no sembra tutto uguale non è tutto uguale i gruppi non sono tutti uguali le persone che parlano di fiamma anche se ci sono sempre più persone che parlano di fiamma ormai una moda non sono tutti uguali c'è chi ha raggiunto un certo livello di comprensione un certo livello di allineamento ad animo e parla da quel paradigma e altri no seguono altri paradigmi bisogna vedere poi a lunga quali porterà i risultati più forti per le persone quante persone consapevoli veramente ci sono rispetto a gente spaventata un giudicante che crede di essere spirituale senza esserlo ok noi dobbiamo cercare cose dentro di noi esatto dobbiamo cercare conferme dobbiamo cercare invece di sentire anima dentro di noi perché è sempre stata lì perché a volte non si sente più la connessione perché l'energia non è ancora stabilizzata a volte ci credi a volte no a volte hai dei dubbi a volte no cioè essere allineati ad anima è un lavoro lungo difficile secondo me perché perché ci sono centinaia di cose che ti possono distrarre dai segni dai gruppi dalle cose cioè è difficile essere costanti perché tendenzialmente siamo duali in un mondo duale viviamo nel mondo della paura questo è dato di fatto cioè se avete dubbi che viviamo nel mondo della paura ricordatevi quello che è successo nel 2020 avete visto il mondo della paura nel pieno della sua forza e non è finita lì stanno già progettando nel 2024 quello che succederà e non è che cosa che mi sto inventando ci sono i documenti basta leggersi basta leggersi i documenti che sono usciti i mesi scorsi basta vedere se non lo sapete adesso c'è il forum di Davos in questi giorni che finisce giovedì sentitevi gli interventi intanto sono online ascoltate ascoltate quello che dicono Schwab che dicono Ariari e di Ariari mi sembra che sia le altre persone che vengono lì al forum Colau o chi ci sarà per lui eccetera vedete quello che stanno progettando il nostro futuro se non facciamo qualcosa diventiamo un attimo più consapevoli ok per cui non la sentiamo per questo motivo la connessione dobbiamo perché siamo ancora nel mondo della paura dobbiamo imparare ad ascendere a superare trascendere la paura che è quello che io un po' alla volta cerco di fare sperando spero col vostro aiuto anche col vostro sostegno se ritenete che quello che faccio vale visto che faccio dei video lunghi per questo motivo per darvi degli strumenti ok oh ma i tuoi video sono lunghissimi Jimmy sì però a volte bisogna di reiterare un punto di vista espanderlo farvi riflettere su un po' di cose perché piano piano ci arrivate cioè non è una cosa mordi e fuggi da video di 15 minuti che tattattato ho dato la risposta e ciao cioè le cose sono sempre più complesse di quello che sembra ok sempre di più se davvero finalmente ho sentito dire una cosa intelligente da Davide stasera e se soltanto la metà di quelli che stiano qui comprendono davvero il mondo farebbe un salto quanto esatto ma magari ma già la metà no ma già un decimo delle persone stasera se riuscisse veramente a incarnare questa cosa sarebbe già un salto enorme ok e se ti dice che non ti amo che risponderei che amo un'altra se ti dice che non ti ami che non ti amo tu ti sente su di te e dici ma a me che mi importa se non mi amo meno io mi amo mi viene semplicemente quella frase di sex and city mi sembra di no Miranda di boh so come si chiama quella un po' più matura di età delle alte aiutatevi che dice io ti amo non amo di più me non amo me per prima una cosa del genere rende un'idea cioè non è che io non ti amo io ti amo però amo di più me quindi mi centro di più su di me quindi se tu se tu dici che non mi ami io mi amo intanto io sto bene con me sto con me e niente me lo può togliere un pupazzetto motivazionale a forma di cimio signore devo trovare qualche ditta cinese che le fa no scherzo sarebbe veramente da veramente una cosa improponibile non so come vai dall'altra felice ciao no non gli devi rispondere così cioè che risposta è Sol ma che cavolo dici ma ti pare che devi risponderti così respiro regolare importante sono d'accordo con Veronica che vabbè è un insediante di yoga se non si è notato sono d'accordo bisognerrebbe avere una pratica costante di pranaia ma io per esempio la faccio la faccio mi ha aiutato moltissimo fare il pranaia ma per aiutare a stabilizzarmi però anche lì cioè una volta che tu impari come bilanciarti arrivi a risultati che magari gli insedianti di yoga ci mettono decenni molto meno e lo sto scherzando eh senza dover fare anni di asana che sono le posizioni o altre cose poi non dico che non bisogna farle le asana sono utilissime la yoga fa benissimo fatto però con un insediante bravo con gli insedianti occidentali che sono tutti fanno le americanate però lo yoga è una cosa sacra perché è comunque un percorso molto importante ti devi fidare di quello che senti tu indipendentemente dalle conseguenze sì però ci vuole molto coraggio micaela la mia fiamma è tornata dopo vent'anni eh lo so la fiamma può tornare anche dopo vent'anni pensa un po' gli ho detto ti amo e ha cominciato a trattarmi male e autosabotare allora a parte che non consiglio però succede di dire ti amo così però il punto non è tanto che gli dici ti amo ma anche come glielo dici con che energia glielo dici se tu gli dici ti amo ma dentro di te non ci credi tu stessa non ti fidi hai paura hai dei dubbi cioè non conta quello che dici conta quello che arriva tramite il vaso comunicante che è l'anima ok sì il tuo centro sì sono d'accordo Veronica ho recuperato dicendo che non lo amo mi sono sbagliata che al suo rifiuto una donna innamorata avrebbe raggiare male mi ha ringraziato che anche per me è così vabbè sembra sembra un dialogo fra pazzi xai no xola scusa xola inizio a perdere colpi faccio la cura del silenzio bravo il silenzio è un maestro i pupazzi che fanno niente i pupazzi stanno fanno i pupazzi stanno fermi là la mia paura è mostruosa e totale cioè vabbè i pupazzi sono rintanati pure i pupazzi riposano è tardi io lo ringrazio anche per questo per i momenti di silenzio di sconforto e poi mi ricentro brava Barbara ok solidarietà per tutte le fiabbe che il lavoro che abbiamo e sì nei video scorsi Jimmy mi ha fatto notare che effettivamente nel mio incoscio avevi paura della riunione ci stai lavorando nei video scorsi mi ha fatto notare che avevi paura della riunione ci stai lavorando però male mi fa piacere mi fa piacere ma molte come ho spesso spiegato quasi nessuna fiamma in realtà vuole stare con la propria fronteparte perché perché legge della parità della paura tutto vuole tranne che state con la vostra fronteparte l'ultima cosa del cuore perché perché andrebbe a morire morirebbe l'ego legge della parità della paura paura di che si state con la fiamma perché ha paura di morire quindi vi autosabota è giustissimo ok solitamente una delle fiamme si fa il mazzo è purtroppo sì nel senso non è che una delle fiamme ci stai solo tu che ti fai il mazzo perché la fiamma sei tu dovete togliervi ancora dalla testa l'idea che la fiamma sia un'altra persona non esiste un'altra persona è una proiezione olografica in un mondo diciamo olografico di energia che non è fisico anche se sembra fisico la fiamma non c'è non esiste sto vedendo se c'è qualcos'altro di relevante io non riesco a non scrivergli di tanto in tanto l'inlimat 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 se non riesci se non riesci a smettere di scriverti di scriverti perché non riesci cosa scatta dentro di te che paura hai cioè se non gli scrivi cosa temi che succeda dietro c'è sempre una paura sempre ok senza aspettative certo dice lui se non si fa sentire ma sarebbe meglio fare il primo passo scrivi se voglia invece di aspettare lui no io non farei il primo passo cioè potresti farlo ma per poterlo fare dovresti già essere bilanciata se hai delle paure sola non sei bilanciata nel momento in cui c'è una paura non sei in anima a quel punto non devo scrivergli ok sì ma però poi l'inlimat se ti senti di scrivergli e gli scrivi poi scappa però tu soffri dopo cioè non è che dici ok gli scrivo e se non vuole stare con me me le sbatto no poi dentro soffri perché lo so che dentro soffri soffri come un cane che funziona così avendo fatto migliori di consulenze so come funziona ok in tal caso ci rivediamo da 300 volte i tuoi video vabbè Sol ma tu sei drogata dai miei video ok ti sei fatta in tante risate in questo percorso Barbara sì anche dei momenti molto comici il percorso di fiamma anche dobbiamo diventare dobbiamo diventare del Buddha più o meno no allora sì per certi versi dobbiamo diventare del Buddha ma cosa vuol dire il Buddha cos'è una persona che si è illuminata ma com'è che si è illuminata ha conosciuto se stesso se volete che tra l'altro trovo che una volta una volta o due l'ho anche illuminato cioè leggete Siddhartha di Erbanesse che è la storia del Buddha ti fa vedere che lui è diventato illuminato quando ha conosciuto e ha integrato anche la sua parte brutta perché prima cercava solo di meditare di elevarsi di ascendere non riusciva a illuminarsi quando ha conosciuto completamente l'altra parte il suo specchio inverto la parte brutta si è illuminato improvvisamente infatti il Buddha cosa fa quando si illumina ride inizia a ridere perché si rende conto che viveva in un'illusione che viveva nel Maya ma tutto ciò che lui credeva che c'era esterno da sé non c'era c'era solo lui che la verità era lui in questo senso diventi come il Buddha diventi un illuminato infatti fiamma illuminazione non a caso ma non deve essere così difficile già solo seguendo i miei video fai un paio dei passi avanti enormi rispetto alla media dell'umanità è un percorso molto duro ma allo stesso tempo anche bellissimo mi ha fatto fare tante risate è vero Claudia dice stanotte ho sognato che mi baciava e poi ho scanzato fino a quando sono uscito dal sogno volontariamente paradossale visto che in realtà lui non mi caga invece lo vorrei ok ma in quel caso come fai a sapere che il tuo sogno in realtà non era la tua proiezione come diceva Freud cioè nei sogni ci sono i desideri incosci non so come dite come fate a vedere la bionda dei pupazzetti se non ho levati da un bel po' forse perché sono i dialoghi di prima lui mi dice vieni ma poi mi blocca come lo ha contatto non ha senso non lo contattare se ti dice vieni non vieni non vai perché tu sei la cosa più importante se vuole viene lui quando sarà veramente convinto di farlo non è che glielo devi dire glielo devi dire cioè verrà accadrà quando è il momento tu intanto pensa a te si può essere solo amici con la fiamma si si può essere solo amici con la fiamma però devi bilanciare l'energia se no è impossibile perché l'energia della polarità della paura ti fa fare come ti posso dire delle delle cappellate cioè ti fa ossessionare troppo se sei ossessionato è difficile essere amico di qualcuno ma io per esempio non sono d'accordo che amici per chi si ama non è possibile secondo me se tu ami qualcuno sei anche il suo miglior amico e non vedo perché non dovresti esserlo cioè se non è il tuo amico una persona che ami chi è? il tuo nemico avatar sì non credo che molti l'abbiano compreso però va bene ognuno è pronto per quando è pronto a comprendere le cose le aspettative non sono mai utili quando c'è armoria c'è si è tutto con la fiamma concordo anche perché se tendete a escludere delle parti di voi state creato una separazione sì poi di corpo non diamo più e divenza è diventato e diamo in terra esatto appunto è l'inizio di questa della video di oggi ok ok se risalzi vediamo un po' bla 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 tutto chiaro ok tutto chiaro scusate sto scorrendo per cercare di arrivare alla fine se c'era qualcosa altro perché ultimamente non rispondo mai alle vostre domande mi sembra anche brutta anche se questo video ormai dura tre ore però vabbè ormai quello che dura dura quanto dura il percorso rimagnetizza dura sei settimane comunque poi se vuoi maggiori dettagli scrivimi di mail i miei 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 vercelai non serve che la ripeto vero sanotte di sogni pupazzi sì va bene ok qual'è la domanda Shimoda Shimoda? sì Shimoda da un po' di tempo giro sul web e trovo gente che ha il mio stesso cognome e che prima non mi succede e prima mi succede raro che vorrà dire che ti si è attivato il SAR il sistema di attivazione lenticolare praticamente è una parte del cervello che si occupa di notare le cose che sono simili e che sono diventate importanti per noi esempio ti vuoi comprare una macchina nuova che ne so la Tesla esempio vabbè io nomino la Tesla perché mi piace e di colpo inizio a vedere la Tesla per Stato a me è successo quando ho iniziato veramente a dire cavolo la Tesla sai che mi piace un sacco me la sono ritrovata praticamente sotto casa quindi la guardavo così cioè e poi dicevo che bella che bella cioè la guardavo come se fosse una bella donna mi dicevo una macchina cosa che chi mi conosce sai che io delle macchine proprio zero non me ne interessa niente zero proprio zero per la Tesla però c'è avuto questa infatuazione oh l'arco di due giorni avrò viste tre e non è che si vedevano facilmente le Tesla però nella mia città per cui quando comunque vuoi comprare una macchina nuova inizio a vedere quella macchina in giro quella è il sistema di attivazione reticolare cioè dove ti focalizzi l'intento o in qualche modo l'energia va detto in un altro modo è una cosa che succede a tutti del normale non vuol dire nulla in particolare solo che hai una buona capacità di ritrovare quello su cui ti focalizzi mi sono perso sono perso un attimo commenti chiedo a Jimmy se mi prende come assistente sì Barbara ma dovrei lavorare gratis se lavori gratis ti prendo subito come assistente ti faccio ti faccio gestire le mail degli psicopatici che mi scrivono quasi ti rendi conto di che devo gestire ogni giorno hai scoperto le fiamme grazie a me ma dai va veramente Carla perché non ti fai l'abbonamento dovreste abbonarvi tutti ma che vi costo la pizza al mese non vi rendete conto del valore che do ogni mese nei video per gli abbonati cioè gli 7 euro che spendete poi le recuperate con le cose che imparate per cui figurati sì insiste il SAR è un sistema di selezione delle cose cioè in qualche modo programmi il tuo inconscio per notare più delle cose cioè il SAR si attiva quando una cosa diventa importante per te è chiaro che se ti devi comprare una macchina nuova ci pensi alla macchina l'immagine di guidarla inizi a vedere di più perché ti sei allenato a notarla perché noi siamo abituati a selettivamente a porre l'attenzione su delle cose che hanno di importanza per noi emotiva questo è un retaggio della psicologia evolutiva perché della biologia evolutiva perché fondamentalmente serviva per la sopravvivenza né più né meno un retaggio antico per cui ha a che fare con il cervello rettileo rettileano o rettino che sta dietro a parte dietro della testa diciamo ok ma non tutti hanno il mio cognome certo però tu lo noti di più una domanda può succedere che non si senta più la connessione telepatica sì può succedere ne ho parlato c'è un video sulla telepatia l'hai visto può succedere ma tutto può succedere che si perda temporaneamente l'ho detto pure stasera comunque vedi il video sulla telepatia c'è un video sulla telepatia non mi ricordo il titolo le fiamme gemelle comunicano con la telepatia non mi ricordo come sentito se qualcuno si ricorda qual è il mio video sulla telepatia addirittura vuole fare la grazia di mettere a sola il link del video che adesso non c'ho voglia di farlo se l'avrei fatto io comunque basta fare domande basta domande stop stop alle domande basta non scrivete più altre domande che non rispondo più perché è tardissimo e sono stanco prima dicevi tre casi delle interazioni fra le fiamme no erano due non erano tre repulsione in cui uno viene tolto dal campo o tira e bolla ok la mano che la fa allontanare è fondamentalmente quando l'energia va in eccesso è una fiamma più che più sensibile che risponde più l'energia si allontana ok a volte succede anche a te ma di solito in realtà se la fiamma si allontana pure tu l'hai respinto cioè in qualche modo anche tu l'hai rifiutato ok spero di che sia chiaro buonanotte Luciano la paura la paura domina si purtroppo si vabbè comunque mi sembra ciao Lenora ciao va bene direi che più o meno abbiamo detto tutto c'è qualcuno che inizia entra adesso a seguire il video anche se l'abbiamo finito a te non piace il cognome ma non è una questione di piacere o meno conta quanto è rilevante per te il cognome cioè se per te anche solo il fatto che dire quella cosa mi fa schifo diventa importante per te come quelli che hanno una fobia se tu hai la fobia dei ragni vuol dire che il ragno è importante per te perché? perché in qualche modo devi che ti faccia del male e lì li vedi ovunque ragni se hai la fobia cioè quando tu hai la fobia se l'oggetto di cui tu sei fobico entra nel tuo campo di percezione lo noti reagisci immediatamente lo noti immediatamente diventa più importante rispetto a se entra un gatto vicino a vicino a te cioè se si avvicina un gatto a te si ti piace cioè ma se si avvicina un ragno capisci? cioè non vuol dire che ti deve necessariamente piacere perché sei importante ma ha una rilevanza emozionale shimoda chiaro? il reiki si può dare anche con gli occhi Usui insegnava quando faceva i corsi a dare il reiki anche con gli occhi tra l'altro Usui non ha inventato il reiki ha inventato la sua versione del reiki ai tempi in cui Usui insegnava c'erano altri insegnanti di reiki che usavano altre varianti del reiki tra l'altro una cosa che non tutti sanno comunque si può trasferire anche con gli occhi il reiki tranquillamente ma non solo con gli occhi anche con altre parti del corpo con la voce c'è anche una tecnica di reiki che utilizza la voce vabbè adesso comunque non è il momento di parlare del reiki perché siamo fuori tema direi che ho risposto a tutto vi ho detto tutti quindi vi ricordo di mettere mi piace al video di iscrivervi al canale di suggerirmi tramite domande e commenti le prossime cose che vorrete chiedere ringrazio Sara per la domanda perché ha stimolato questo stralungo video quindi grazie Sara le vostre domande potrebbero diventare dei video futuri quindi fatevi domande nei commenti scrivetevi le domande nei commenti dei video assolutamente domande cosa che vorreste che trattassi piuttosto che e-mail non so che molti di voi magari sono timidi si vergognano vogliono chiedere cose personali e vi fate domande per e-mail però in linea di massimo evitate di farvi domande per e-mail da meno che non è una cosa estremamente personale che non potete condividere ma se è una cosa che potete condividere scrivetela nei commenti dei video perché è più utile sia per far crescere i video sia perché per me sono molto prioritari i commenti dei video anche se non rispondo perché vi commentate la manetta però li leggo li leggo piano piano leggo e faccio tutto quindi spero che commentate e fate domande abbonatevi supportate il mio canale premendo il super grazie quindi la S scritta grazie nei video ogni video c'è anche un tasto grazie per fare una donazione quindi fate donazioni per supportarmi comprate le tazze le felpe le cose che ho creato se volete con l'altro modo di supportarmi iscrivetevi a Rivagnetizza perché vi servirà se avete bisogno di sessioni di qualcosa di carte letture numerologiche eccetera parliamo ci sono varie soluzioni che possiamo trovare e vi ringrazio tanto per aver partecipato vi auguro buona giornata di lavoro perché come è tardissimo buonanotte a tutti io sono Jimmy e ci vediamo al prossimo video sulle fiamme gemelle buonanotte a tutti ciao e alla prossima buonanotte a tutti e a prestissimo ciao buonanotte